comincio eh inizio volevo soltanto ti do vuoi iniziare tu Vincenzo? Sì inizio io e ti do la parola sì inizio io allora buongiorno a tutti sono Vincenzo Comi il presidente della Camera Penale e rivolgo il saluto a tutti i partecipanti all'incontro che abbiamo organizzato come Camera Penale dedicato al tema il penalista e i rapporti con la stampa eh voglio salutare e ringraziare le colleghe e i colleghi che hanno organizzato quest'evento e che prenderanno la parola per intervenire dopo di me i colleghi del consiglio direttivo Domenico Naccari e Giuseppe Belcastro le colleghe Serena Gentili, Luciana Spina e Angela De Rosa e eh Cesare Placannica eh il past president della Camera Penale. Do il benvenuto al direttore del fatto quotidiano Marco Travaglio che ha accettato il nostro invito a partecipare. L'occasione del confronto di oggi trova diciamo una duplice origine diciamo un origine contingente nell'articolo del fatto di qualche giorno fa sulla sentenza della Corte Costituzionale sul tema della censura della corrispondenza tra detenuto il regime di quarantuno bis e difensore ma eh si inserisce perfettamente in un contesto ben più ampio del tema dei rapporti del penalista con la stampa che eh da sempre è stato oggetto di particolare attenzione dell'Unione delle Camere Penali e di impegno anche e attenzione della Camera Penale di Roma che anche una commissione dedicata a questo argomento e che organizza eh costantemente delle iniziative e oggi è rappresentata da Serena Gentili che è dedicata a questo argomento. L'articolo del fatto quotidiano la causa come posso dire contingente di di questa occasione ha colpito tutti noi perché nel trattare l'argomento abbiamo colto da una parte una lettura distorta della sentenza della Corte Costituzionale e di conseguenza di quei valori che dello Stato di diritto garantiti dalla Costituzione. Dall'altra una visione eh tendenzialmente populista e inaccettabile della funzione e del ruolo del difensore eh erroneamente sovrapposto al proprio assistito. Ecco questa idea del difensore identificato con il cliente poi finisce per pregiudicare la funzione e il diritto di difesa e tracima in una distorta rappresentazione di chi quotidianamente svolge la propria funzione con impegno e sacrificio e rispetto della deontologia e delle regole del processo. Io ho l'onore di rappresentare gli avvocati penalisti di Roma e sono testimone della vita dell'avvocato penalista, dello spirito, dei comportamenti, dell'impegno quotidiano, di tantissimi colleghi che sono impegnati nella difesa dei diritti delle persone che vengono, che sono sottoposti a processo. Più a monte come dicevo nella scelta di organizzare questo evento c'è il tema attuale sempre problematico dei rapporti tra il processo e i mezzi di informazione che incide in maniera macroscopica sul nostro ruolo e sulla nostra funzione e quotidianamente ne cogliamo la rilevanza. Certamente da una parte sentiamo profondamente l'essenzialità di riservare al processo e ai giudici l'accertamento del reato. Dall'altra il diritto di informazione e i pericoli di una comunicazione distorta che finisca poi per pregiudicare i diritti fondamentali e determini i danni irreparabili nei confronti delle persone che sono attinte da questa macchina mediatica, da questo fenomeno mediatico. Il bilanciamento tra queste due funzioni anche alla luce dell'ultimo decreto che ha dato attuazione alla direttiva comunitaria sulla presunzione di non colpevolezza come fondamentale esigenza di rappresentazione dei soggetti nell'ambito della comunicazione giudiziaria richiede ancora di più una riflessione ermeneutica allargata a tutte le voci dei protagonisti di questa normativa. Ecco lo spirito dell'incontro di oggi è proprio il confronto sul tema del penalista, della propria funzione e del ruolo nei rapporti con la stampa, nella consapevolezza dell'importanza delle due funzioni per contribuire a garantire l'effettività di una cultura ispirata al rispetto dei principi sanciti nella nostra costituzione. La figura dell'avvocato è un presidio di garanzia della tenuta dello Stato di diritto che contribuisce all'etica pubblica e al funzionamento della giustizia. L'avvocato non è un ostacolo alla giustizia ma è un soggetto che garantisce i diritti delle persone e rende credibile il prodotto della decisione del giudice. Dietro questi principi c'è un impegno come dicevo costante e quotidiano di tantissimi avvocati che sempre nel rispetto della deontologia, delle regole del processo si impegnano quotidianamente. La stampa è altrettanto importante e sicuramente nei rapporti tra le due funzioni è sempre e fondamentale il confronto e la condivisione dei principi ispiratori dei ruoli. Tutto ciò che finisce poi nel per per essere eh così finalizzato a tutelare l'interesse dei cittadini. Io quindi ringrazio ancora eh la i colleghi che hanno organizzato e il dottor Travaglio che eh ha accettato di partecipare a questo nostro incontro di oggi che sarà sicuramente proficuo e nello spirito proprio di questo di di questa ehm condivisione di partecipazione di confronto confronto su eh questi principi e sulla deontologia principalmente proprio sui due ruoli e sulle funzioni da una parte della del difensore e dall'altro della della comunicazione. Eh io sono certo che oggi in questo spirito costruttivo di confronto daremo un contributo importante al tema e quindi eh auguro buon lavoro sono qui ad ascoltare e do la parola a Domenico Naccavi. Grazie. Grazie Vincenzo e proprio questo incontro nasce proprio da questo spirito, spirito di confronto, di collaborazione e diretto al dottor Travaglio. Diciamo che noi come Camera Penale di Roma abbiamo deciso di eh al contrario di quello che è successo in altre organizzazioni di non eh minacciare o sporgere alcuna querela perché eh riteniamo che eh ovviamente vadano affrontate le contrapposte visioni e ognuno ovviamente nello spirito di una dialettica leale eh possa rappresentare quelle che sono eh le proprie visioni. Eh noi come penalisti lo diceva Vincenzo siamo eh e i colleghi che sono eh qui presenti oggi sono siamo tutti eh tutti i giorni eh in aula a rappresentare le istanze di tutti dai più deboli ai agli imputati facoltosi quelli che hanno più possibilità ma eh rappresentiamo e difendiamo quello che è un valore costituzionale ed è per questo che praticamente questa sentenza della Corte Costituzionale non fa altro che rafforzare è eh quello che è un principio costituzionale cioè il fatto della libertà nella difesa libertà che si estrinseca in tutte le sue forme anche in quella di corrispondenza tra l'avvocato e il cliente e l'avvocato non deve mai essere confuso col cliente perché eh vanno distinti eh il ruolo dell'avvocato deve difendere sempre e comunque chiunque sia l'infutato eccellente o meno e ed è per questo che noi abbiamo deciso di 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 confrontarci con con lei eh proprio perché infatti la ringraziamo per questa sua partecipazione a questo convegno in quanto eh ci rendiamo conto che effettivamente dal confronto possa nascere un qualcosa di costruttivo e si possano anche considerare le opposte visioni della vicenda quindi eh il penalista noi perché abbiamo messo il titolo il penalista e dei rapporti con la stampa perché eh e diciamo è un convegno a trecentosessanta gradi il penalista ha i suoi doveri deontologici il giornalista altrettanto spesso questi doveri deontologici vengono violati dall'una e dall'altra parte è necessario vedere anche raffrontando quelli che sono i i doveri dell'avvocato e i doveri del del giornalista quelli che sono poi le violazioni che può commettere l'uno che può commettere l'altro se possa essere sacrificato un principio costituzionalmente garantito in virtù di un di un di un comune sentire cioè non bisogna mai eh accomunare ribadisco eh l'avvocato al cliente spesso eh ci viene chiesto come fate a difendere un un imputato che ha aggravato che è accusato di gravi leati noi lo facciamo perché un nostro dovere oltre che deontologico ma ce lo richiede eh cioè è un principio costituzionalmente garantito il dovere il diritto alla alla difesa quindi eh ovviamente non travalicando quelli che sono i limiti che ci impone la legge e la deontologia ed è per questo che abbiamo deciso di organizzare questo questo incontro quindi io ringrazio il presidente Comi che ci ha dato la possibilità di sviluppare questo questo convegno eh ringrazio le due validissime colleghe Luciana Spina e Serena Gentili che sono le responsabili della commissione deontologia e eh Serena Gentili dell'informazione giudiziaria sempre della Camera Penale di Roma eh ovviamente ne discuteranno oltre che il dottor eh Travaglio eh Giuseppe Belcastro che è responsabile dell'osservatorio eh informazione giudiziaria dell'Unione delle Camere Penali Cesare Placanica già presidente della Camera Penale di Roma e oggi eh responsabile dell'osservatorio giusto precesso e doppio binario dell'Unione delle Camere Penali ed in ultimo Dulcis in fondo il dottor Travaglio non ne aveva bisogno ma ovviamente abbiamo invitato anche la collega Angela De Rosa che difende il fatto quotidiano e ovviamente ritenevamo giusto che fosse anche lei presente non soltanto eh perché ehm deribadisco il dottor Travaglio sicuramente non aveva bisogno di difensore ma ritenevamo che fosse corretto e giusto che ci fosse anche una visione giuridica nell'affrontare eh determinate tematiche che ha eh che diciamo ha ripercorso nei suoi articoli il dottor Travaglio quindi io a questo punto darei la parola a Luciana Spina per una introduzione dal punto di vista deontologico grazie grazie a tutti salve a tutti e grazie al presidente della nostra Camera Penale grazie a Domenico e grazie a tutti i relatori a tutte le persone che ci stanno ascoltando come eh già hanno detto eh Vincenzo e Domenico eh noi ci siamo posti il problema del perché i rapporti tra i penalisti e la stampa stanno diventando sempre più complicati e perché sforzano in alcuni casi in vere e proprie gli atribe tra le due categorie. Io cercherò di affrontare eh quello che a mio avviso può essere uno dei problemi che incide su questo rapporto chiaramente dal punto di vista deontologico. D'altronde non è la prima volta che la Camera Penale di Roma si interroga sulla questione e le Camere Penali in generale. In generale lo hanno sempre fatto con un occhio sempre molto attento al rispetto da parte degli avvocati del nostro codice deontologico. La professionalità del difensore odierno deve essere impeccabile arricchita da una formazione adeguata nonché dall'aggiornamento obbligatorio che allineandoci ai paesi europei ci costringe a riattivare il nostro bisogno di apprendere e magari a recuperare qualche vertetto del nostro vangelo la deontologia. Scriveva così Ettore Randazzo qualche anno fa il nostro vangelo la deontologia e proprio rapporto al rapporto al diciamo come l'avvocato deve comportarsi con i mass media abbiamo due articoli fondamentali che conosciamo tutti e sono l'articolo 18 e l'articolo 57 del nostro vangelo che stabiliscono i principi etici cui l'avvocato deve attenersi nei rapporti con i mezzi di informazione. Equilibrio e misura, discrezione e riservatezza, esclusivo interesse della parte assistita ed ancora divieto di diffusione di notizie coperte dal segreto di indagine, divieto di spendere il nome dei clienti e degli assistiti, divieto di enfatizzare le proprie capacità professionali e spesso però assistiamo invece ad una divulgazione di notizie anche riservate da parte della stampa ed io credo che non possiamo sottacere che a volte queste notizie provengono anche da alcuni avvocati. Come spesso assistiamo ad una eccessiva esposizione mediatica dell'avvocato, di alcuni avvocati su fatti che riguardano procedimenti ancora in indagine. Questo deriva sicuramente da un crescente diffondersi della cosiddetta spettacolarizzazione del processo penale e dell'attenzione dell'opinione pubblica, a volte anche un po' morbosa credo sul sui casi di cronaca e sicuramente non possiamo vietare in generale l'esposizione mediatica perché in alcuni casi è doveroso per l'avvocato intervenire e difendere il proprio assistito anche al di fuori del processo penale. Però questo dovrebbe sempre avvenire nei limiti e nel rispetto delle norme del codice diontologico perché altrimenti si fa innanzitutto un danno al proprio assistito e si rischia tra l'altro di pregiudicare la serenità del magistrato che deve poi andare a giudicare il processo. E proprio per questo sappiamo benissimo che addirittura una camera penale in un caso ritenuto di necessario intervenire per sensibilizzare i propri scritti alla delicata tematica del rapporto penalisti e stampa e per richiamarli al rispetto scrupoloso delle norme del codice deontologico. Quindi io ritengo che da una parte sicuramente su questa su questo difficile rapporto con alcuna parte della stampa incida anche eh diciamo il comportamento che alcuni avvocati hanno con gli organi di stampa che non è così eh strettamente ossequioso delle norme del codice deontologico che riguardano proprio i rapporti con il rapporto con i mass media. E dall'altro lato però non possiamo nemmeno non evidenziare a mio avviso sempre dal punto di vista deontologico che sicuramente il l'aumentare del numero degli avvocati penalisti e a volte anche l'assenza di una pratica penale seria portano a comportamenti da parte di alcuni alcuni avvocati non proprio sempre molto assenti al rispetto di tutte le norme del codice deontologico. Norme che una volta probabilmente non si aveva nemmeno bisogno di leggere perché si imparavano direttamente dal proprio dominus all'interno del proprio studio legale semplicemente guardando il comportamento del proprio dominus. Norme che impongono i doveri di probità, dignità e decoro nella salvaguardia della propria reputazione ma anche della immagine della professione forense e non possiamo non evidenziare quello che è successo poco tempo, pochissimo tempo fa con dei profili Instagram di alcuni avvocati. il dovere di evitare incompatibilità, il dovere di dilizzanza e competenza, il divieto di conflitto di interessi, il divieto di fornire assistenza gratuita in cambio di notorietà, il divieto di accaparramento della clientela. Su questo il Consiglio nazionale forense ha detto, ha sottolineato come dobbiamo tenere sempre a mente, tutti gli avvocati dovrebbero tenere sempre a mente che l'avvocato deve non solo essere ma anche apparire integerrimo perché leggo l'autorevolezza di un avvocato risiede non solo e non tanto nella sua preparazione e nel suo personale talento ma nell'onestà e correttezza del suo personale comportamento. La corrispondenza di quest'ultimo ai canoni di ontologicamente stabiliti è a tutela non del singolo avvocato ma dell'intera avvocatura ed è per tali motivi che il comportamento del professionista non solo deve essere rispettoso di tali canoni ma deve altresì sempre apparire tale ed allora il problema ritengo è che quando appare che anche solo un professionista non sia integerrimo e quindi che le regole non vengano rispettate si pregiudica inevitabilmente la dignità della professione tutta e l'immagine dell'intera classe forense e questo credo che inevitabilmente vada ad influire a contribuire diciamo a determinare quella idea di un avvocato penalista eh che la stampa a volte indica come un po' spredudicato e che porta poi appunto alcuni giornalisti ad elargire eh critiche a volte eccessivamente offensive sull'intera classe della categoria dei penalisti a questo però ritengo si aggiunga anche un'altra tendenza di alcuna classe politica che a fine di acquisire consenso nell'opinione pubblica tende anche a dare una visione della giustizia un po' passata e a contribuire ad ingenerare nell'opinione pubblica l'idea che la colpa di tutti i mali della giustizia sia nell'avvocatura quindi credo che dobbiamo chiederci cosa possiamo e dobbiamo fare di costruttivo oltre chiaramente a pretendere eh da parte di noi avvocati penalisti un rispetto sempre puntuale e preciso delle norme del codice deontologico per restituire a questa nobile professione anche agli occhi della stampa e dell'opinione pubblica quella credibilità e quell'autorevolezza che questa professione merita per garantire il rilievo costituzionale e sociale che attribuito al ruolo del difensore io credo e mi aspico che questo convegno possa in parte servire anche a questo grazie. Grazie Luciana grazie per aver ricordato quelli che sono i principi a cui dobbiamo attenerci in particolare probità, dignità e decoro. Eh sono principi fondamentali per il penalista che dobbiamo sforzarci tutti di eh tenere non soltanto a mente ma di applicare. Di applicare e far applicare ai nostri colleghi. A questo punto lascerei la parola a Serena Gentili che è responsabile dell'informazione giudiziale della Camera di Roma. Buonasera a tutti. Io intanto vi ringrazio per l'invito e sono Serena Gentili, sono la responsabile della commissione informazione giudiziaria della Camera Penale insieme al collega eh Giovanni Giacquinto di cui vi porto i saluti. Io eh prima di affrontare il tema che è oggetto di questo convegno e sotto dire il profilo che mi compate credo che sia necessaria una riflessione su quello che è il rapporto tra il processo penale e la stampa prima ancora di analizzare quello che è il rapporto tra il eh difensore tra il penalista e la stampa. soprattutto tra la stampa e il processo penale perché è quello l'aspetto che eh ci riguarda più da vicino e che ci interessa particolarmente ed in particolare rispetto a questo ritengo che sia importante fare delle una riflessione eh attenta su quella che è la fenomenologia della eh più che informazione della disinformazione giudiziaria perché questo è il problema vero non ci preoccupa la libertà di informazione e la libertà di espressione e il diritto dovere di informare i cittadini è chiaramente una eh è un diritto sacrosanto nessuno lo mette dei presenti dove lo metta in discussione. La questione è che questa libertà deve però essere espressa all'interno di quelli che sono i canoni di liceità, quei limiti che ogni libertà eh costituzionalmente garantita porta come dire ontologicamente con sé. Eh perché a noi penalisti interessa tanto la cronaca giudiziaria? Ci interessa tanto perché occupa il novanta per cento diciamo così dello spazio dedicato alla cronaca. La verità è che eh forse a seconda quelle che sono quell'interesse un po' più originoso della collettività o altre ragioni che non è questa la sede eh in cui è necessario analizzarla però è un fatto e a fronte della cronaca giudiziaria dobbiamo dire che ci sono due aspetti che probabilmente ci interessano più di ogni altro. Da un lato appunto la disinformazione giudiziaria strettamente intesa quindi le modalità con cui questo viene trasferita la notizia che spesso sono delle modalità che sono forbianti, spesso sono manipolate, spesso anche soltanto erronee e dall'altra quello che è il grande mostro sacro che ci preoccupa il processo mediatico, quel eh fenomeno a cui assistiamo costantemente e che in qualche modo pregiudica anche poi in lo svolgimento del del processo davanti al tribunale no? Io l'altro giorno ho letto una interessante un interessante passaggio del avvocato Petrelli nell'introduzione al libro bianco sui rapporti tra mezzi di comunicazione e processo penale. Ora lo cito più o meno testualmente. Lui dice il pericoloso derivato di ciò cioè del processo del processo mediatico è la produzione di una sorta di realtà parallela cioè di un processo autonomo frutto di una dire e propria rappresentazione sociale per cui è vero ciò che l'informazione dice che è vero perché è prodotto diretto dalla magistratura e non di ciò che è reale. Questo è il problema in fondo, questo è il nocciolo no? Che in in poche battute eh Petrelli spiega esattamente quali come dire racchiude quelli che sono le ragioni dei turbamenti dei penalisti perché quello di di quando i processi penali vengono scimmiettati in televisione, di quando vengono sentiti testimoni, perché tutto questo, questi processi che si realizzano poi in tv in tv così come poi a cascata anche sui social media hanno delle conseguenze che sono le conseguenze devastanti irreparabili per quanto riguarda il processo penale e e queste conseguenze devastanti sono spesso come dire i profili no? Che possono essere compromessi da questo tipo di informazione sono sostanzialmente la compromissione della genuinità degli elementi di prova, pensiamo alla testimonianza no? Che la che è l'elemento di prova principe e quella viene assolutamente compromessa quando il testimone che ancora non è stato sentito all'interno del processo viene bombardato da informazioni continue, da opinioni eh di soggetti diversi, quelle sono suggestioni che eh in qualche modo non è condizionano il ricordo e questo deve essere preso in considerazione anche nel per quanto riguarda eh il processo che ancora non si è svolto. C'è un bellissimo articolo sul tema che è di Cataldo Empriere che credo che abbia proprio scritto al Fatto Quotidiano poco meno di un di un anno fa che fa proprio questa riflessione cioè sul processo cognitivo del testimone e su come questo possa essere adulterato attraverso questo queste informazioni preventive. Io ricordo tra tutte il eh l'esame e il controesame che è stato fatto in diretta al testimone del processo di Grillo Junior no? Mi pare il proprietario del Ben and Breakfast che viene sottoposto gli vengono contestate le sette. Insomma una cosa veramente imbarazzante e non era ancora stato sentito. Questo per quanto riguarda il primo aspetto. Il secondo aspetto che lascia perplessi ovviamente che preoccupa è che in questo modo c'è un'evidente compromissione della Virgin Mind e del giudice. Sappiamo tutti che il giudice è sottoposto a delle influenze anche inconsapevolmente anche eh anche se ha una schermata una schermatura diciamo così che è legata alla sua professionalità ma è ancor peggio questo effetto si genera su quelli che sono i giudici popolari invece che questa schermatura ad esempio non l'hanno e che eh e che forse sono più esposti anche a queste colorite no di atribe eh televisive e poi chiaramente il terzo la terza conseguenza molto grave che e forse anche delle eh dei profili di irreparabilità è quello che accade nei confronti poi del eh dell'imputato, dell'indagato, molto spesso apprende di essere indagato direttamente dalla stampa prima ancora che gli arrivi una qualche consiglia di comunicazione dal eh dal tribunale dalle autorità giudiziarie molto spesso viene indicato perché poi la verità è che in questa fase di anticipazione del giudizio che a cui assistiamo e la la viene sposata la tesi dell'accusa di conseguenza viene una tendenza al al ad una tesi ad ad aderire a una tesi colpio modista tanto che poi il soggetto che è coinvolto all'interno del processo resta con una eh marchio di contruplezza addosso anche se poi viene messa una sentenza di assoluzione questo è un altro problema grave di cui bisogna su cui bisogna riflettere e quando poi vengono emesse le sentenze di assoluzione a volte la percezione che l'opinione eh l'opinione pubblica è che si è denegato a giustizia questo eh teniamone conto insomma vabbè questo io non è non voglio attardarmi su questo quello che voglio dire è che di sicuro le questioni del rapporto tra il processo e la stampa sono sono questioni risalenti ne parlava già Carrara quindi non è un fatto nuovo qual è la l'elemento in più che abbiamo oggi nel eh nel nella realtà odierna diciamo nel mondo contemporaneo è l'effetto di rompente che la cassa di risonanza della televisione o del eh o dei social media eh consente poi alla diffusione di queste notizie perché a quel punto le notizie arrivano in tutte eh in tutte le dimensioni domeniche nelle case e e il giornalista nella diciamo così eh nella vita quotidiana poi acquisisce quasi un ruolo sacerdotale come se fosse il depositario di una verità assoluta ecco questo forse andrebbe in qualche modo contrastato e questo per quanto riguarda il processo mediatico per quanto riguarda la disinformazione e mi rifà eh chiaramente mi ricollego a quello che è stato detto in precedenza è ovvio che eh in la l'informazione deve essere un'informazione corretta e non manipolata insinuare che l'avvocato sia un sodale un fiancheggiotore che sia qualcuno che strizza l'occhio al proprio assistito è un modo diciamo così e mi tengo è è un modo sbagliato di fornire l'informazione perché alimenta la cultura del sospetto no insinua diciamo quello che eh lascia passare una notizia che non è una notizia cioè una comunicazione che non viene data espressamente ma comunque il passaggio di questa insinuazione che può essere poi letta come se fosse la realtà passa e questo bisogna fare attenzione perché questo come diceva anche il presidente Comi indebolisce il ruolo del difensore il difensore è garante dello stato del diritto indebolire il ruolo del difensore indebolisce lo stato del diritto questo è è importante dirlo secondo me come premessa detto questo ed è terminata la mia parte come dire destro del discorso voglio affrontare invece una riflessione su che qual è il ruolo del del penalista no cosa può fare diciamo che il codice ci offre delle eh ci offre delle possibilità perché ci c'è della normativa l'articolo cento quattordici che prevede il divieto ci sono delle sanzioni che hanno diversa natura però la verità è che a prescindere dalla poi dalla formulazione un po' non mi guarda sta lettera morta fino ad oggi insomma non hanno delle grosse conseguenze per arginare la disinformazione anche l'introduzione il recepimento della direttiva non ha questo effetto reale sul eh come dire sul ehm correggere quello che è il fenomeno distorsivo della dell'informazione e e quindi l'avvocato penalista deve innanzitutto prendere coscienza del fatto che deve avere un ruolo all'interno di tutto questo quindi deve intervenire in qualche modo deve combattere attivamente questo tipo di distorsioni come però perché ci chiediamo a questo punto come allora innanzitutto questo a prescindere dal fatto che si possano presentare esposti querele chiaramente questo è un'altra questione che non non è eh questo non è affrontare ma probabilmente e questo lo sottopongo agli interlocutori che poi si confronteranno successivamente forse dovremmo avere anche un approccio rinnovato alla comunicazione e alla utilizzabilità della comunicazione in ambito giuridico cioè mi chiedo a questo punto perché preso atto del fatto che il processo mediatico esiste che non possiamo prescindere da questo ne possiamo impedirlo preso atto del fatto che non vogliamo costringere la libertà di informazione in un no in confini a un gusti perché è giusto che ci sia una libera espressione una libertà di fare informazione anche in termini più come dire critici no anche attraverso la satira bene benissimo tutto questo però allora a questo punto dobbiamo pensare che forse la comunicazione anche da parte degli avvocati può essere un'esplicazione della difesa cioè ragionare sul fatto che forse anche attraverso la comunicazione dell'avvocato potremmo contribuire a difendere il nostro assistito quindi chiaro che presupposti dando per presupposti quelli che sono le i canoni ideontologici che eh la collega Luciana Spina ha già espresso e quindi chiaramente quelli si notavano ovviamente invalicabili però a questo punto bisogna comunque pensare ad avere un rapporto con la stampa che sia in un senso o in un altro perché noi avvocati siamo un po' abituati a eh tenere il freno cioè abbiamo un po' sempre l'idea per cui sia meglio non parlare con la stampa o quantomeno centellinare le informazioni che trasferiamo invece forse è opportuno valutare questo cioè cominciare a capire se è il caso di dare delle notizie se sì che notizie dare e in che con che modalità per esempio questo può fare l'interesse del nostro assistito io lo chiedo a voi chiaramente lo metto e lo metto sul tavolo e poi anche comunicazione di tipo diverso comunicazione giuridica cioè cercare di diffondere quella che è la cultura giuridica il ruolo del difensore il ruolo del difensore d'ufficio quello che è lo stato di diritto è chiaro che è un'opera complicata perché io mi è capitato questo lo condivido con voi mi è capitato di assistere a dei colleghi che sono nati in tv e che magari hanno fatto anche delle riflessioni strutturate e eleganti però poi il passato non forse non erano in grado di comunicare effettivamente quelle che erano le nozioni giuridiche che volevano condividere perché a fronte di un'analisi tecnica specifica articolata forse bisogna anche capire se utilizzare un linguaggio più fruibile per poter condividere queste nozioni con la collettività e questa è un'altra questione che sottopongo ovviamente a voi quindi capire anche se forse l'avvocato ha la necessità di formarsi in questi termini perché non potendo prescindere dall'esistenza della comunicazione dal confronto con la stampa forse dovremmo essere bravi a farlo anche noi questa è la domanda e quindi chiaramente se farlo noi personalmente o fornire perché ci sono anche delle agenzie specializzate che fanno questo ma è chiaro che poi hanno un costo e quindi anche questo rientra nella valutazione della difesa se e dall'altra parte cioè valutare dall'altra spolla e questo forse mi può interessa di più al direttore travaglio o comunque alla stampa in generale perché poi bisogna anche capire se dall'altra parte le testate sono i giornali sono disposti a pubblicare la tesi della difesa se sono disposti a pubblicare le eventuali discettazioni garantiste di un avvocato penalista se per esempio riferire delle notizie che possano in qualche modo dispostarsi da quella che è la tesi da quella che è la linea editoriale no passatemi in termini un po' manettara mainstream del proprio giornale se poi questo non abbia delle conseguenze che sono delle conseguenze negative rispetto al al proprio giornale rispetto al proprio elettorato rispetto a quella che è la propria identità e quindi anche questo secondo me va messo sul tavolo e in ultimo e poi giuro che concludo è la domanda se l'avvocato debba o no prendere parte al processo mediatico perché se da un lato questo può certamente in qualche modo magari può aiutare il la tesi difensiva può diffondere quelli che è la posizione difensiva del proprio assistito dall'altro si rischia di legittimare questo circo mediatico e quindi questo questa anticipazione del processo al rispetto al valido dibattimento tale qui e qui giuro che concludo la valutazione dell'opportunità di creare una strategia difensiva mediatica grazie grazie serena e processo mediatica e realtà parallela eh opportunità che il difensore eh debba intervenire in processi mediatici eh sono questioni che ti ringraziamo di aver posto io penso che in tutto questa è una mia opinione personale ma penso che poi la condivideremo anche con Cesare con Giuseppe con gli altri Angela eh ritengo che ci debba essere equilibrio cioè non ci si può chiudere dentro gli studi e spesso eh si fa l'interesse del cliente anche rappresentando quelle che sono le tesi difensive senza ovviamente arrivare all'eccesso opposto dove effettivamente c'è la compromissione dei mezzi di prova laddove i testimoni vengono sentiti prima dalla stampa e poi in tribunale quindi questa realtà parallela a cui tu hai fatto riferimento inevitabilmente compromette quella che è la genuinità del processo reale quindi eh noi siamo dobbiamo secondo me eh avere il giusto equilibrio tra un eccesso che il processo mediatico e la chiusura dentro dentro lo studio non è facile trovare il punto d'equilibrio però insieme dobbiamo secondo me trovare quello che è il punto d'equilibrio tra una chiusura all'interno dello studio e un processo mediatico quindi grazie per gli spunti interessanti adesso lascio la parola alla collega Angela Verosa che ci parlerà ovviamente del diritto all'informazione. Sì buon pomeriggio a tutti ehm un saluto un ringraziamento devo dire di cuore agli organizzatori di questo convegno al presidente Comi e insomma a tutti i relatori ehm devo dire sono molto contenta di di poter partecipare eh per un motivo in primis per portare quello che è un punto di vista ehm un po' diverso che si pone diciamo un po' a cavallo tra le istanze del dell'avvocato penalista e quelle magari del del giornalista che è appunto il il punto di vista dell'avvocato che che si occupa di diritto dell'informazione e ehm l'avvocato insomma che che si occupa appunto del diritto dell'informazione e se diciamo il penalista come giustamente diceva il presidente Comi e come mi immagino condividiamo tutti è il baluardo il presidio di garanzie di diritti di libertà fondamentali del delle norme del giusto processo e così via eh l'avvocato che si occupa di diritto dell'informazione nello specifico in particolare ha proprio il compito di di difendere in qualche modo e di custodire quello che ehm il diritto invece la libertà eh dell'informazione quella libertà di manifestazione del pensiero tutelata e dall'articolo ventuno della costituzione e dall'articolo dieci della convenzione europea dei diritti dell'uomo e che è considerata eh da 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 più parti insomma sia a livello europeo che internazionale e anche appunto della nostra corte costituzionale come eh la pietra angolare eh del dell'ordinamento democratico e quindi appunto una libertà fondamentale che a livello europeo è ritenuta prevalente anche rispetto a molti altri diritti eh fondamentali della persona ehm ebbene qual è il compito poi nello specifico dell'avvocato che si occupa di questa materia? È proprio quello di fare da controllore in qualche modo dei limiti ehm alla libertà di stampa. Eh questo può apparire un po' singolare ma è proprio così perché dobbiamo anche tenere a mente che eh non sempre eh o non necessariamente l'avvocato affianca il giornalista ma naturalmente lo troviamo anche a fianco della persona che può ritenersi diffamata e quindi dell'eventuale coerelante eh in un in un procedimento poi per diffamazione. Quindi il compito diciamo del ecco perché io oggi sicuramente eh assisto il il fatto quotidiano il dottor Travaglio ed è come dire eh un motivo di anche di di orgoglio questo ma al di là di questo non sono qui nella veste di difensore del dottor Travaglio perché naturalmente non ne ha assolutamente bisogno e non è questa la sede ma proprio per per parlare appunto di questo per portare questo diverso punto di vista questa diversa prospettiva. Quindi quello che l'avvocato appunto difende in un processo per diffamazione come naturalmente sapete immaginate tutti è proprio la libertà di stampa ma anche questa funzione di controllare appunto effettivamente il rispetto eh di tutte le norme previste appunto dall'ordinamento in questa materia il controllo dei limiti alla libertà di stampa. Questi limiti eh sono sacrosanti, sono necessari perché eh ovviamente un'attività giornalistica spregiudicata senza scrupoli e senza limiti nocerebbe naturalmente perché eh porterebbe causerebbe la lesione della reputazione individuale dell'onore ma anche di altre libertà di altri diritti individuali eh della persona. Quindi è ovvio eh da sempre diciamo da quando eh la libertà di manifestazione del pensiero è stata riconosciuta e eh garantita eh sono sempre stati previsti dei limiti appunto ha comunque al suo esercizio. Eh limiti che conosciamo insomma il rispetto comunque dei requisiti della della verità, della continenza e della pertinenza. Ma è ovvio che questi limiti seppur necessari e sacrosanti eh debbano anche essere temperati, non possono essere troppo stringenti e troppo opprimenti nei confronti appunto di questa libertà proprio perché abbiamo detto si tratta eh di un di un cardine fondamentale della di ogni democrazia e ehm però diciamo sulla carta non è questo quello che ci preoccupa perché se sulla carta è così quindi se effettivamente in astratto questi limiti che ormai conosciamo da sempre eh sono effettivamente temperati e eh diciamo in teoria non non comprimono troppo l'attività giornalistica, la libertà di manifestazione del pensiero, quello che eh preoccupa in realtà e che eh peggiora andando avanti ahimè con il tempo, sono eh dei limiti che concretamente poi si pongono alla libertà di stampa e all'attività eh del giornalista, del buon cronista. Qui apro una piccola parentesi in realtà facendomi a quello che ho sentito negli interventi precedenti dal punto di vista della disinformazione e della dell'attività giornalistica. Eh bisogna fare attenzione e distinguere, fare un distinguo necessario tra quella che è l'attività della stampa e quindi del in particolare dei giornali e quindi del buon cronista, da quella che è poi eh la distorsione che eh a cui assistiamo soprattutto nei programmi televisivi dove eh ci sono questi c'è questa spettacolarizzazione effettivamente dei processi e quindi assistiamo ormai a processi mediatici che avvengono davanti alle telecamere prima che eh nelle aule di giustizia. Sono due cose completamente diverse da tenere ben distinte e separate perché ripeto una cosa è l'attività sacrosanta del giornalista, del cronista che eh anche come dire come un segugio va alla ricerca della notizia per poi eh riportarla, raccontarla ai lettori e quindi all'opinione pubblica eh esercitando il legittimo diritto di informare e di formare l'opinione pubblica dall'altra che poi eh questa attività che più che stampa diciamo non è tanto da assimilare alla stampa o all'informazione ma è da assimilare più che altro ad uno show eh vero e proprio che nulla a che vedere appunto con la libera eh manifestazione del pensiero, con la libertà di espressione. Fatta questa parentesi che però insomma ritenevo necessaria eh avendo ascoltato l'intervento della della collega Serena Gentili ehm stavo appunto eh dicendo che eh questi limiti che in concreto poi si impongono alla libertà di stampa l'attività del giornalista sono sempre più stringenti e sono rappresentati ad esempio ehm dalla ma anche dal dalle stesse norme dalle leggi che eh si susseguono in questa materia ma che purtroppo non sono mai decisive che non non danno delle soluzioni alle tante problematiche che riguardano alla materia appunto della dei reati eh di opinione in particolare della diffamazione ma sono più che altro delle leggi ambigue o eh troppo complesse di difficile interpretazione che quindi alla fine o restano lettera morta o comunque finiscono per creare ulteriori problemi. Ulteriore limite eh forse il principale ehm rispetto appunto all'attività giornalistica è quella poi della presentazione di querele eh innumerevoli querele o eh naturalmente citazioni per quanto riguarda il civile o esposti disciplinari o ricorsi al garante della privacy insomma tutta una serie di strumenti che seppur anche questi sacrosanti sulla carta perché ovviamente finalizzati a eh garantire una tutela dei diritti individuali delle persone che si ritengono eh in qualche modo danneggiate finiscono molto spesso per ehm rappresentare semplicemente ahimè una forma di intimidazione nei confronti dell'attività giornalistica e della libera stampa perché molto spesso e questo lo dico mh un po' anche per esperienza perché appunto ehm diciamo assisto quotidianamente a a a questo fenomeno eh vengono presentate molto spesso querele atti di citazioni e quant'altro assolutamente infondati che non hanno eh realmente motivo eh dal punto di vista giuridico diciamo di di sussussere eh vengono presentate querele addirittura sulla punteggiatura sugli aggettivi insomma mh andando al di là poi di quelle che sono effettivamente le norme, i limiti previsti dalla dalla legge in tema di diffamazione. Ecco perché dicevo facendo una una piccola riflessione proprio sul ruolo dell'avvocato eh in questo caso una riflessione critica ehm l'avvocato eh soprattutto in questa materia del diritto dell'informazione deve considerarsi ed essere considerato come il controllore dei limiti alla libertà di stampa e anche quando si è dall'altra parte quindi quando eh si è chiamati in qualche modo ad esprimersi a dare il proprio parere ad un futuro eventuale assistito sulle eh sulla possibilità diciamo di intraprendere un'azione legale che riguarda che abbia ad oggetto un articolo uno scritto bisognerebbe ecco in quel caso non assecondare magari quella che può essere anche giustamente una interpretazione soggettiva che eh la persona interessata dà di quell'articolo e quindi di incoraggiare in qualche modo un risentimento della persona che però poi non trova in realtà dal punto di vista giuridico un riscontro quindi ecco bisognerebbe prestare attenzione anche a questo aspetto ed evitare la presentazione di querele o di atti di citazione assolutamente infondati e che magari possono avere nella migliore delle ipotesi e quindi dando per assodata la buona fede naturalmente della persona eh possono eh semplicemente basarsi su un'interpretazione soggettiva di quello scritto oppure eh a questo punto diciamo eh andando in in mala fede possono essere rivelarsi strumentali per il conseguimento di altri obiettivi che nulla hanno a che vedere con la tutela della propria reputazione e ehm in particolare diciamo da questo punto di vista il problema è costituito soprattutto da eh quando queste azioni legali sono intraprese da eh dai cosiddetti potenti di turno per potenti ovviamente indichiamo i politici, i rappresentanti delle istituzioni eh ma anche eh grosse società, grossi gruppi industriali, rappresentanti della finanza e financo magistrati perché purtroppo eh è così. Questo non per dire naturalmente che eh questi soggetti che esercitano dei poteri anche eh pubblici eh non possano eh non possano come dire in qualche modo agire per tutelare il proprio onore, la propria reputazione e non debbano presentare querele o attività di azione. Ma per dire che in questi casi bisogna fare attenzione a a che eh poi questi strumenti non diventino non finiscano per diventare ripeto uno strumento di eh intimidazione e di dissuasione nei confronti della libera stampa perché è evidente che pensiamo soprattutto ai eh giornalisti freelance alle piccole testate che non hanno non godono di finanziamenti pubblici o non non hanno alle spalle un editore potente che possa proteggerli e eh sostenerli anche economicamente. In questo caso eh la presentazione continua ripetuta di querele, di atti di citazione finisce per diventare una spada di damofle appunto sulla loro attività per cui alla fine ahimè eh piuttosto che eh smettere di lavorare, fallire e eh quindi non poter più esercitare la propria attività magari si decide di non dare alcune notizie e quindi di tacere in determinate situazioni ehm appunto per evitare queste queste situazioni e quindi di dover pagare ingenti risarcimento e eh e smettere di lavorare. Questo è un problema reale, è un problema reale e eh per cui appunto sarebbe necessario uno dei motivi principali per cui sarebbe necessario un intervento del legislatore, una riforma che da anni insomma si si chiede a grande voce, che chiesta a grande voce da parte dei direttori delle principali testate, quindi da parte proprio della degli organi di stampa e da parte degli avvocati che si occupano di questa materia proprio perché ripeto si finisce per limitare in in maniera anche violenta e forte la libertà di stampa ehm con questi strumenti appunto di eh di intimidazione perché tali sono e ehm ovviamente si auspica una riforma eh in che senso? Nel senso ad esempio dell'introduzione dell'istituto della querela temeraria che appunto da tempo viene richiesto eh proprio perché al pari del civile come accade insomma parallelamente in sede civile potrebbe anche in sede penale questo strumento in qualche modo scoraggiare la presentazione o comunque limitare la presentazione di appunto queste querele che poi sono assolutamente infondate e eh hanno soltanto lo scopo di eh in qualche modo intimidire appunto il giornalista e ehm quindi ripeto lasciando perché non è che si può limitare tuturre ovvio la eh la libertà e il diritto di ciascuno di intraprendere azioni legali a propria tutela però ecco uno strumento un istituto del genere servirebbe sicuramente a eh a porre un freno agli abusi anche ehm di questa eh insomma delle querele di questi strumenti. Eh ancora si potrebbe ehm rivedere tutto il sistema sanzionatorio ehm che ancora come dire e e che ormai è obsoleto e ancora quello originario, l'impianto originario previsto eh come sappiamo negli anni addirittura negli anni quaranta e ehm che prevede appunto delle pene troppo dure nei confronti del giornalista anche laddove poi ed è si tratta della come dire la maggior parte, la maggioranza dei casi eh non si sia neanche di fronte ad una diffamazione vera e propria perché anche il il cosiddetto errore incolpevole quindi quando effettivamente viene commesso un errore dal giornalista che eh non ha avuto magari eh modo, tempo di eh di avere, di trovare dei riscontri, di verificare con certezza la notizia ma che magari prontamente rettifica, smentisce e quindi si adopera per riparare anche il danno. Ecco, in anzi a questi casi io sfido eh voi colleghi appunto eminenti colleghi penalisti ad individuare poi eh a dare prova della sussistenza del dono perché ricordiamo che alla fine la diffamazione essendo un delitto e non essendo previsto nella forma colposa eh deve appunto deve comunque avere sempre eh un do il dolo generico e nella maggior parte dei casi questo dolo non c'è, non può essere provato perché appunto l'intento del giornalista non è quello di ledere la diffamazione del soggetto, quantomeno del buon giornalista, ma appunto si può ahimè incappare in errori, in colpevoli e eh ed è assurdo che dinanzi a questi errori eh debbano essere combinate eh non solo con danni penali ma anche comunque sanzioni oltremodo eh rigorose e pure. Un primo passo in questo senso eh un primo importante passo che oserei quasi definire rivoluzionario è stato compiuto dalla Corte Costituzionale che come spesso accade ultimamente è intervenuta eh come dire al posto del legislatore perché dinanzi all'inerzia, al silenzio del del nostro Parlamento, del nostro legislatore, la Corte Costituzionale ha ehm appunto intervenuta con la sentenza centocinquanta del duemila ventuno che ha dichiarato come come noto insomma come sappiamo eh l'illegittimità costituzionale dell'articolo tredici della legge eh sulla stampa e conseguentemente dell'articolo trenta comma quarto della legge numero duecento ventitré del millenovecento novanta che invece disciplina il sistema radio televisivo. È una sentenza rivoluzionaria perché? Perché la prima volta che appunto si mette mano in maniera così eh importante appunto al sistema delle pene ehm per quanto riguarda il il delitto di diffamazione e finalmente mi viene da dire è stata appunto ritenuta eh la pena detentiva prevista sempre in ogni caso quindi come indefettibilmente accumulata con la pena pecuniaria è stata appunto ritenuta incostituzionale perché? Perché ehm non rispettosa violativa sia dell'articolo ventuno della costituzione appunto come dicevamo prima che tutela riconosce il la libera manifestazione del pensiero e sia dell'articolo dieci della convenzione europea del diritto dei diritti dell'uomo che riconosce tutela la libertà di espressione e ehm come scrivono appunto come hanno scritto i giudici della consulta e eh il in particolare il redattore di questa sentenza che il dottor Viganò nel quale peraltro il dottor Travaglio si è confrontato in un incontro insomma eh molto interessante proprio su questi punti il dottor Viganò scrive appunto nella in questa importante sentenza che ormai la pena detentiva o meglio l'indefettibilità eh della previsione della pena detentiva eh sempre e comunque insieme a quella pecuniaria ehm era ormai incompatibile eh con proprio questa visione della libertà eh di stampa della libertà di manifestazione del pensiero intesa appunto come pietra angolare del dell'ordinamento democratico e quindi proprio in quest'ottica assolutamente garantista rispetto alla libertà di opinione e di stampa eh si è ritenuto finalmente di eliminare questa norma e ehm questo è un primo passo perché appunto eh in realtà come dicevo eh diversi sarebbero i correttivi da eh da mettere in campo eh in materia ma soltanto il legislatore può come ricorda la stessa Corte Costituzionale può intervenire e può operare appunto questa riforma questa novella perché eh il punto è che bisogna proprio rimodulare quel bilanciamento che è alla base tra le due diverse istanze tra i due diversi diritti da una parte la libertà di manifestazione del pensiero la libertà di informare e di formare l'opinione pubblica e dall'altra eh invece la tutela comunque necessaria e sacrosanta della reputazione e dell'onore ma anche di altri diritti come la privacy e e così via con gli altri diritti individuali della persona. È ovvio che alla base di tutto deve esserci un bilanciamento tra questi interessi contrapposti e eh bilanciamento che appunto può essere eh però modulato soltanto dal legislatore e attraverso magari anche una eh come dicevo la previsione di sanzioni alternative quindi sulla pena detentiva è già intervenuta appunto la Corte Costituzionale ma anche il tema degli ingenti risarcimento che spesso vengono combinati ehm andrebbe rivisto magari la previsione incentivare la la previsione e l'applicazione di strumenti alternativi come appunto eh la rettifica il diritto di replica condotte riparatorie o anche sanzioni disciplinari ingenti stringenti ma che in qualche modo comunque sono più eh temperate rispetto invece al sistema sanzionatorio che eh abbiamo in campo attualmente. Un'ultima eh notazione poi vado a chiudere per lasciare spazio naturalmente agli altri relatori perché mi sono dilungata forse un po' troppo una riflessione proprio su in generale sull'attività giornalistica eh sulla professione del giornalista che eh io ovviamente quando dico questo mi riferisco sempre al buon cronista come ci riferiamo normalmente al al buon difensore all'avvocato che appunto è rispettoso delle norme della deontologia anche per il giornalista è la stessa cosa. Quindi ehm diciamo l'attività del giornalista è sicuramente e lo è da sempre rischiosa e pericolosa. Perché? Perché appunto eh è rischiosa economicamente per i motivi che abbiamo detto perché va in contro a sanzioni eh risarcimento anche ingenti e si scontra spesso con con i potenti con i poteri pubblici anche se eh come eh la la famosa la celebre sentenza della Corte Europea dei diritti dell'uomo del novantasei Woodwin contro Regno Unito definiva appunto i giornalisti come i cani da guardare la democrazia. Quindi si scontrano spesso con i poteri forti, con i potenti, rischiano economicamente, rischiano a volte anche la loro pelle diciamolo perché eh non dimentichiamo i tanti giornalisti che addirittura hanno perso la vita o comunque sono stati intimiditi e minacciati ma senza arrivare a questi estremi eh è appunto una una professione pericolosa e ehm certo sarebbe molto più semplice e eh si eliminerebbe ogni rischio se il giornalista si limitasse a recepire le informazioni che provengono dalle fonti ufficiali e quindi eh si limitasse a recepire le cosiddette veline eh un termine che però eh richiama ai me eh il regime delle divise che richiama un'idea di autoritarismo che eh assolutamente rifiuto e che non credo piaccia a nessuno di noi, a nessuno dei presenti. Quindi se facesse questo sicuramente il giornalista non rischierebbe nulla da nessun punto di vista e non sarebbe neanche considerato un soggetto così fastidioso diciamo per i potenti eh o anche per altri eh per altre categorie. Però appunto chiudo con questa riflessione anche richiamando quella novella diciamo il decreto legislativo che è intervenuto appunto il centottantotto del duemilaventino eh che ha recepito la direttiva europea. Sacrosanto anche in quel caso il principio e la tutela della presunzione di innocenza e ovviamente lo dico sia da avvocato che da cittadini. Ma eh vi lascio con questa provocazione. Vogliamo comunque che eh la stampa e che il giornalista eh diventi un mero portavoce del palazzo che si limite appunto a riportare soltanto i comunicati stampa in questo caso delle procure e e quindi senza che abbia la possibilità di eh in qualche modo eh individuare quelle che sono effettivamente le notizie di interesse pubblico, di interesse sociale. Oppure vogliamo che invece sia preservata eh la libera appunto manifestazione del pensiero e eh la libertà di stampa e l'attività del giornalista ovviamente eh ovvio esercitata entro i limiti previsti dalla legge e dalla giurisprudenza. Io credo appunto che eh proprio per quei principi che eh la Corte Costituzionale e la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo hanno eh propinato da sempre eh nella copione a loro copiosa giurisprudenza non si possa rinunciare a questo importante e fondamentale presidio della libertà e della democrazia. E quindi insomma eh spero e auspito che anche questo strumento, questo decreto legislativo, in particolare l'articolo tre venga applicato diciamo eh non venga anzi applicato in maniera rigorosa e alla lettera proprio per non dare un un polpo ferale all'attività eh del giornalista. Io mi scuso se mi sono dilungata e quindi vi ringrazio nuovamente e lascio la parola al collega Naccari. Grazie. Sì, grazie Angela. Eh siamo entrati nel nel vivo del dibattito nel senso che abbiamo visto la la visione degli avvocati. Iniziamo a vedere qual è la parte relativa al diritto all'informazione. Tu ci hai detto effettivamente che i giornalisti non devono essere un fastidio per i potenti e l'avvocato non deve essere considerato un ostacolo per la giustizia. E poi anche le regole deontologiche cioè non è non è corretto che un'informazione di garanzia l'indagato la prenda dalla stampa allo stesso modo non sono corretti altrettanti eh comportamenti che ehm eh possono accadere nell'ambito dell'attività nell'attività forense. E quindi passo subito la parola al dottor Travaglio. Quindi sulla corretta informazione di cui ha parlato eh Angela eh il buon il buon cronista e poi vorrei che eh si esprimesse su un concetto se lui nella sua esternazione effettivamente come è stato accusato considera gli avvocati complici dei loro assistiti oppure eh effettivamente mh perché è più o meno spesso ha eh eh ha chiarito qual era il il concetto però vorremmo un attimino aprire un dibattito anche su questo quindi io lascio a lui la parola lo ringrazio per per la sua adesione a questo convegno e sono convinto che il il contributo che darà ci consentirà di arricchire questo dibattito. Lo auguro vi ringrazio per avermi invitato. Dunque mi pare che il punto di partenza sia la frase sopra la testata che abbiamo pubblicato in riferimento alla sentenza della Corte Costituzionale eh sul divieto di censura della corrispondenza. La frase diceva la consulta cancela la censura sulla corrispondenza fra detenuti al quarantuno bis e avvocati. Geniale. Così i boss potranno ordinare omicidi e stragi. Eh non credo di di avere in quelle poche l'ho scritta io eh quindi me ne assumo la la piena responsabilità perché poi giornale è un lavoro collettivo ma quella quella frase lì l'ho fatta io. Eh quando io dico potranno non ho detto che riusciranno sempre ho detto che potranno. Quanti siete come avvocati in Italia? Trecentomila? Potete escludere che l'avvocato di un boss al quarantuno bis trasmetta all'esterno un ordine di morte? Io non metto la mano su sul fuoco per il novantanove per cento dei miei colleghi eh per i quali spesso eh esprimo la più ampia mia riprovazione personale per come quotidianamente tradiscono il loro mestiere. Immagino che anche voi sappiate e mi è piaciuta molto l'impostazione del dibattito data finora eh che mi è sembrato un dibattito che cerca di sgombrare il campo dalle ipocrisie e dalla e dalla retorica e ed è un dibattito che mi pare che si stia radicando molto nella realtà effettiva delle cose del come sono le cose del mondo in cui viviamo realmente concretamente e non in quello che eh dovrebbe essere secondo i nostri sogni o doveva essere secondo i sogni secondo me un po' deliranti di chi ha scritto il codice di procedura penale nel 1989 immaginando un giudice chiuso nella sua teca come la mummia di Tutankhamon eh che non riceve nessuna notizia sul suo processo fino al momento in cui non inizia la prima udienza ecco parliamo delle del paese in cui viviamo della realtà del mondo più che nel paese in cui viviamo e della realtà in cui siamo calati secondo me se facciamo un dibattito che prescinde dalle ipocrisie e anche da certe descrizioni fumettistiche io ormai mi diverto eh a sentirmi descrivere come un manettaro che vuole abolire gli avvocati vuole arrestare tutti innocenti e colpevoli anzi preferibilmente gli innocenti perché sono pure sadico è molto divertente questa rappresentazione fumettistica però non credo eh che faccia bene ehm a un dibattito serio come quello che eh avete organizzato e nel quale avete deciso di invitarmi ehm quindi ehm io respingo innanzitutto questo fumettino quotidiano gli amici dei giudici gli amici dei PM gli amici degli avvocati i garantisti i giustizialisti eh io se non me lo sentissi dire tutti i giorni non mi sentirei affatto un giustizialista non credo eh che sostenere che chi ruba deve andare in galera sia una cosa particolarmente stramba o avversiva credo che molti avvocati ne possano ne possano convenire anzi conoscendo molto più di me eh il livello di illegalità che c'è in questo paese credo che si renderanno benissimo conto anche loro che probabilmente se la giustizia funzionasse un po' meglio in galera ci sarebbe molta più gente di quella che riusciamo a mettere quindi ehm io rifuggo sempre da questi ismi e da queste definizioni la mia è una formazione ehm di cronista giudiziario che ha studiato questi problemi non sui libri ma nelle aule di tribunale andando a scarpinare in giro andando a cercare notizie possibilmente in esclusiva e documenti possibilmente segreti spero che a nessuno di voi si rizzino i capelli in testa uno dei nostri doveri è quello di più violare i segreti e di pubblicare le cose che gli altri non hanno anche se sono segrete finalmente non tanto la nostra corte costituzionale che è sempre un un po' in ritardo notoriamente ma la corte di giustizia europea ha più volte detto che è nostro dovere violare i segreti con un unico discrimine che quei segreti riguardino personaggi o vicende di interesse pubblico se c'è l'interesse pubblico l'interesse pubblico prevale eh sul divieto e sulla segretazione dell'atto famosa la sentenza nella quale in un libro addirittura due giornalisti francesi pubblicavano rapporti segreti dei servizi francesi ai tempi di Mitterrand eh e condannavano il governo eh e lo stato francese per avere sanzionato penalmente quei due giornalisti che avevano violato il segreto e altre sentenze del genere ci sono e spesso vengono utilizzate dai nostri avvocati per difenderci quando qualcuno ci domanda per quale strano motivo pubblichiamo segreti pubblichiamo segreti perché è esattamente il nostro dovere se dovessimo pubblicare i comunicati stampa delle procure soprattutto dopo questa demenziale legge sulla presunzione di innocenza faremo i velinari probabilmente non c'è neanche bisogno di fare il giornalista per basterebbe semplicemente un sito che dirama le i comunicati delle procure e se non piacciono agli avvocati il comunicato uguale e contrario dell'avvocato difensore noi che cosa ci stiamo a fare eh se non ci mettiamo la nostra professionalità e la nostra e il nostro spirito di segugi la nostra curiosità eh e la nostra abilità nell'infilarci nelle pieghe delle leggi anche a costo di violare il il sacro principio eh del divieto di pubblicazione integrale di atti non più coperti da segreto e sono tutte cose bizantine delle quali io personalmente me ne sono sempre fregato eh perché so che è mio preciso dovere pubblicare atti anche segreti anche non pubblicabili che abbiano il requisito dell'interesse pubblico per il personaggio che riguardano o per la vicenda che riguardano eh aggiungo che io non ho scritto una riga ed è il mio è l'unico giornale d'Italia che non ha scritto una riga sulla nota vicenda eh Totti Lariblasi perché a me non me ne frega niente dei rapporti privati fra due coniugi tanto più quando ci sono dei bambini piccoli che leggono presunte amanti del loro padre o della loro madre e per venire alle vicende giudiziarie il mio è l'unico giornale che non ha scritto una riga su quel senatore che la settimana scorsa si è trovato in mezzo a una vicenda di droga perché non abbiamo scritto una riga perché a differenza del caso Morisi che faceva la morale a quelli che fanno i festini a base di droga e poi li faceva anche lui e quindi aveva un gigantesco eh problema di coerenza tra eh le le i vizi privati e le pubbliche virtù tra il dire e il fare bene questo senatore non ha mai fatto campagne contro chi si droga e quindi secondo me non meritava di essere sbattuto sul giornale per il fatto di essere finito in un'inchiesta di droga questo per dire che cosa intendo io eh per segreto e per rispetto della privacy e invece per interesse pubblico delle vicende e dei personaggi la mia è un'esperienza come dicevo che mi sono fatto sul campo ma non solo come cronista di giudiziaria che poi a un certo punto è diventato direttore e quindi ha dovuto purtroppo aggiungo io smettere di seguire i processi perché era la cosa che mi piaceva di più in assoluto ma io faccio anche un secondo mestiere eh che è strettamente legato al primo che è il mestiere di imputato per diffamazione a mezzo stampa è un lavoro altrettanto impegnativo rispetto a quello di giornalista e di direttore tanto più da quando sono diventato direttore perché prima mi querelavano mi facevano causa soltanto per quello che scrivevo io adesso me la fanno pure per quello che scrivono tutti gli altri redattori e collaboratori del mio giornale quindi ogni giorno ricevo firmate da avvocati come ricordava giustamente Angela De Rosa una fiumana di lettere verdi alcune recapitate anche a domicilio e altre in redazione oppure di notifiche dei carabinieri o della procura nel 99 per cento dei casi incomprensibili assurde folli e io non vengo a sapere tutte quelle che sono ancora più folli e che non arrivano nemmeno sul nostro tavolo perché vanno dei plani in archiviazione senza che nemmeno noi lo veniamo a sapere ma quelle diciamo che rappresentano l'iceberg sommerso rispetto a quella puntina che noi vediamo questo per dire che cosa che io ho ottimi rapporti intanto con i miei avvocati perché mi difendono a volte riescono addirittura a farmi assolvere quando sono colpevole questo naturalmente è una vittoria doppia per me ma io ho ottimi rapporti anche con gli avvocati che frequento e che ho frequentato per il lavoro che l'altro lavoro che faccio quello di giornalista perché il cronista giudiziario tanto le notizie molto spesso le attinge dagli avvocati a me è capitato molto più spesso di avere notizie anche verbali anche segreti da avvocati che non da magistrati e non ho mai trovato niente di strano in tutto questo perché penso che tra i compiti dell'avvocato ci sia quello di seguire il suo cliente non soltanto in aula ma anche fuori e questo proprio perché non dobbiamo essere ipocriti non dobbiamo scandalizzarci se c'è il processo mediatico se il processo l'unico modo nella società del 2022 per evitare il processo mediatico è il regime autoritario dove il processo è segreto e dove di solito la sentenza di condanna coincide perfettamente con la richiesta del pubblico ministero che è il porta ordini del governo lì non ci sono errori giudiziari almeno statisticamente riscontrati perché il PM potrebbe farsi la sentenza da solo tanto la sentenza collima perfettamente al cento per cento con la richiesta del pubblico ministero e la gente non ne viene informata perché se no si ribellerebbe quindi io credo che il processo mediatico è una cosa della quale invece di scandalizzarci ne dobbiamo prendere atto e dobbiamo semmai studiare delle norme per limitarne i danni ma l'idea che il processo non debba finire in televisione o sui giornali fino al giorno in cui viene pronunciata la sentenza definitiva è un'idea folle per cui secondo me anche l'ordine forense anche la classe forense dovrebbe battersi per uscire dall'ipocrisia nella quale siamo entrati nel 1989 quando appunto si è stabilito che il giudice deve chiudersi gli occhi e tapparsi le orecchie e non sapere niente di ciò di cui dovrà giudicare perché perché è semplicemente irreale semplicemente improbabile impossibile ci sono delle vicende private che non hanno nessun riflesso pubblico e che possono anche arrivare in tomse al giorno della sentenza ma ci sono almeno al giorno della prima udienza ma ci sono un sacco di vicende congiunto la signora Breschetti Rosa vediamo se sono giuste anche le date nata a Catania il 13 marzo 74 c'è una c'è un microfono aperto quindi dicevo io ho il massimo rispetto per gli avvocati recentemente mi ha telefonato l'avvocato Coppi per ringraziarmi perché avevo detto che mi sarebbe piaciuto vederlo al Quirinale perché l'avvocato Coppi mi sembra un avvocato che oltre a essere un grande giurista ha sempre saputo distinguere tra le sue funzioni tecniche di difensore di Tizio Caio e il suo ruolo di giurista per cui mi dava la garanzia che se fosse andato al Quirinale pur essendo stato l'avvocato di Andreotti e di Berlusconi non si sarebbe occupato degli interessi dell'unico dei due suoi imputati eccellenti rimasto in vita e cioè di Berlusconi ma avrebbe fatto il presidente della Repubblica di tutti mi ha telefonato non per dire che era stupito ma per dirmi che erano stupiti molti suoi colleghi che dicevano è incredibile quel manettaro che vorrebbe abolire gli avvocati propone proprio un avvocato per il Quirinale appunto Coppi è molto intelligente e quindi sapeva benissimo che questo era il fumetto ma non era la realtà e lo dico perché ci sono se c'è questa descrizione generalizzante che come tutte le generalizzazioni è ingiusta e falsa che l'avvocato diciamo aderisce e collima con il suo cliente è perché purtroppo ci sono molti avvocati che danno l'impressione di collimare con il loro cliente non tutti naturalmente ma molto spesso quelli famosi per anni la gente chiedeva di essere difesa dall'avvocato Taormina perché l'avvocato Taormina andava in televisione e faceva il culo ai giudici vuol dire che qualcuno ha capito che forse fare il culo ai giudici insultandoli non era il modo migliore per fare gli interessi del proprio cliente hanno smesso ma che impressione danno e non parlo soltanto del caso limite di Taormina ma di tanti altri gli avvocati pensate soltanto agli avvocati che fanno anche i parlamentari che vanno in parlamento presiedono o fanno parte della commissione giustizia riformano o depenalizzano i reati dei loro clienti e poi vanno in aula a difenderli ad assistere a una sentenza nella quale alla fine c'è scritto il fatto non è più previsto dalla legge come reato perché l'avvocato lì presente lo ha depenalizzato oppure si battono per l'indulto e poi vanno a prendere la sentenza che indulta i loro clienti come fa la gente a fare una distinzione fra un avvocato che addirittura ha così poca deontologia da tenere aperto lo studio quando sta in parlamento occuparsi dei reati dei propri clienti che lo pagano andare in aula di tribunale senza distinguerla dall'aula del parlamento e nell'aula del parlamento senza distinguerla dall'aula del tribunale e poi indignarsi pure se la gente non riesce a distinguere tra l'avvocato e il cliente già è difficile di per sé perché notoriamente l'avvocato è una parte fondamentale per la democrazia e per lo stato di diritto ma è una parte nel processo difende la parte che gli ha commissionato la sua difesa mentre notoriamente il pubblico ministero se fa bene il suo mestiere rappresenta la collettività e il giudice tanto più che deve emettere la sentenza se poi si assiste a manifestazioni che secondo me gli ordini professionali dovrebbero censurare molto più severamente di quello che fanno o non fanno è difficile e secondo me un danno per tutti quegli avvocati che credo siano la maggioranza che non vanno in parlamento non vanno in televisione e sanno perfettamente distinguere tra sé la propria funzione e quella del proprio cliente ho fatto quella frase perché mi è capitato nella mia professione di giornalista di leggere delle sentenze di condanna a carico di poliziotti al servizio dei mafiosi di magistrati al servizio dei mafiosi di politici al servizio dei mafiosi di preti e anche un monsignore al servizio dei mafiosi di medici al servizio dei mafiosi e anche di avvocati al servizio dei mafiosi e io credo che se uno esce dall'ipocrisia e va a calarsi nella realtà delle zone di mafia e sa qual è la difficoltà che ha un avvocato nel difendere il proprio cliente capo mafia se non è tutelato dallo Stato e anche dalle leggi non si scandalizza di quella mia frase che poteva anche essere provocatoria ma nascondeva una verità io se se seguo i processi mi faccio una certa idea ho seguito per esempio il processo per le tangenti Fiat i dirigenti i massimi dirigenti della Fiat erano tutti difesi da un famosissimo avvocato di Torino che adesso non c'è più e che quindi non nomino fino al momento in cui qualcuno di loro decideva di dissociarsi dalla linea ufficiale dell'azienda che era negare tutto anche di chiamarsi Fiat e cominciare ad ammettere la verità e cioè che la Fiat pagava tangenti come tutti gli altri grandi gruppi imprenditoriali e cosa faceva la prima cosa che faceva il manager che si dissociava dalla linea aziendale dismetteva il mandato all'avvocato dell'azienda e se ne prendeva un altro dato che Torino è la città più mafiosa che c'è dopo Palermo e ve lo dice un torinese quel manager che si chiamava Mosconi e che si dissociava dall'avvocato che avrebbe dovuto difendere lui ma che in realtà difendeva la linea dell'azienda che era esattamente l'opposta alla sua ha dovuto andare ad asti a trovarsi un avvocato perché a Torino non ha trovato un solo avvocato disposto a difendere uno che voleva dire il contrario di quello che voleva dire la Fiat questa cosa a Locri a Palermo a Trapani a Napoli a Castellammare ma anche nelle nei processi di drangheta o di mafia o di camorra che si fanno sul litorale laziale o in Lombardia o nelle o in Val d'Aosta o in Val di Susa dove ci sono grandi insediamenti mafiosi avviene nei processi di mafia la cosca ti paga l'avvocato e ti paga lo stipendio alla famiglia mentre tu stai in carcere e non parli che qual è il primo atto che fanno quando uno decide di collaborare con la giustizia il primo atto che fanno è portargli via la famiglia perché la prima cosa che farà l'avvocato è avvertire la cosca che tizio si è pentito e ha cambiato avvocato questa cosa la vogliamo dire perché è vera e succede sempre allora secondo me permettere a riparo un avvocato dalle minacce e dalle intimidazioni della cosca è quella di far sapere al mafioso che se scrive all'avvocato di ordinare un delitto o di dare un qualsiasi tipo di input alla cosca visto che lui al 41 bis e non lo può fare e fargli sapere che comunque il suo messaggio verrà visto da qualcun altro e che quindi è inutile che ci provi con l'avvocato perché certo ci sono anche degli avvocati eroi che si fanno ammazzare a Torino fulvio croce si è fatto ammazzare pur di difendere le brigate rosse che rifiutavano di avere l'avvocato per far saltare il processo io sono torinese e vivo nel culto di fulvio croce a cui è dedicata l'aula dell'ordine degli avvocati nel tribunale di Torino ci sono degli avvocati eroi io personalmente non credo che riuscirei a farmi ammazzare e penso ai tanti avvocati che quando si trovano di fronte il boss che devono difendere se tentano di resistere meritano di essere aiutati io credo che una norma che avverta il boss che i suoi ordini di morte al suo avvocato anche se glieli passa verranno visti da qualcuno sia un'ottima norma a tutela dell'incolumità di quell'avvocato esattamente come io penso che fosse geniale la norma che aveva introdotto Giovanni Falcone a tutela dei giudici che stabiliva l'obbligo di custodia cautelare per i reati di mafia perché se c'è la facoltà di custodia cautelare ma c'è anche la facoltà di non custodia cautelare è tutto sulle spalle del giudice e se il tu mafioso sai che il giudice non può non arrestarti perché ti deve arrestare non te la prendi col giudice te la prendi semmai con la legge se invece il giudice ha la facoltà di arrestarti ma anche la facoltà di lasciarti a piede libero e allora penserai che ce l'ha con te quindi ci sono delle norme che per la vita vissuta concreta nelle zone di mafia è meglio che ci siano esattamente come l'altra norma secondo me geniale che il massimo conoscitore di criminalità organizzata che era Giovanni Falcone ha voluto fare ed era quella che imponeva l'arresto in flagranza per il testimone falso o reticente non la facoltà l'obbligo di custodia cautelare infatti quell'obbligo di custodia cautelare mandava un messaggio molto preciso lo sappiamo che tu testimone sei sottoposto a pressioni e a condizionamenti dell'ambiente mafioso però sappi che sementi finici dentro e quindi tu potrai andare a dire a chi ti ha detto di stare zitto guarda che io ho dovuto parlare perché sennò finivo dentro e questo de responsabilizza quella scelta queste sono norme che sono tipiche di chi vuole uscire dall'ipocrisia giustizialismo manettarismo, garantismo eccetera e vuole calarsi nella realtà concreta di questo paese che ha notoriamente tre regioni e varie zone a macchia di leopardo sotto il controllo militare di organizzazioni criminali siamo gli unici però lo dobbiamo sapere e dobbiamo uscire dall'ipocrisia senza pensare che c'è qualcuno che vuole vietare agli avvocati di fare il loro mestiere o che li vuole abolire perché io sono l'ultimo per la mia professione di imputato che vuole fare nell'una cosa nell'altra chiudo perché vi ho già tediati forse troppo con due notazioni esperienziali sulle norme sono trett'anni che cercano di impedirci di pubblicare i verbali le intercettazioni eccetera eccetera e spesso in questa battaglia io ci vedo molte associazioni non tutte per la verità degli avvocati io sono invece del parere totalmente opposto non solo devono cadere tutti i divieti fatta salva la privacy per le vicende che riguardano la privacy cioè che non hanno nessuna attinenza con l'interesse pubblico ma che bisogna proprio cambiare impostazione radicalmente io sposo da sempre la tesi dell'avvocato Malavenda altro grande esperto di diritto dell'informazione che dice che i giornalisti come gli avvocati dovrebbero avere accesso agli atti invece di andarli a piatire e a lemosinare da tizio caio di straforo perché se tu vai a chiedere un atto di straforo o ti arriva quello che fa comodo all'accuso o ti arriva quello che fa comodo alla difesa ma tu devi averli tutti tu devi avere un quadro complessivo è a quello che serve la professionalità del giornalista che non può essere un distributore automatico di carte o di veline o di comunicati di una parte o dell'altra sapendo il suo mestiere deve soppesare tutto deve combinare tutto deve mettere insieme tutti gli interessi sapendo che esistono e deve servire non la parte perché il giornalista non ha un cliente ma deve servire la collettività perché i nostri committenti sono i lettori che non hanno nessun interesse né dalla parte dell'accusa né dalla parte della difesa vogliono semplicemente sapere di che cosa si sta parlando in quale fase del giudizio si è chi ha fatto cosa chi dice cosa chi gli contraddice cosa questo vogliono sapere e a quel punto il processo non sarà più il famigerato circo mediatico sarà un'informazione più o meno attendibile a seconda della professionalità del giornalista ma almeno sarà colpa del giornalista se non sarà un'informazione attendibile perché fino a quando il giornalista avrà un boccone di qua uno strappetto di là uno missis di qua un mezza paginetta tagliuzzata di là certamente non avrà il quadro complessivo per fare il suo lavoro che deve essere imparziale assolutamente perché il giornalista non ha nessun interesse perché non lo paga né la procura né l'avvocato a meno che l'imputato non sia l'editore o non sia un amico dell'editore e qui dobbiamo uscire come diceva l'avvocato De Rosa da un'altra ipocrisia oggi la gran parte dei processi che vengono definiti mediatici perché hanno interesse pubblico sono i processi ai padroni di questo paese e i padroni di questo paese hanno in mano la stampa che condizionano da un lato con la carota della pubblicità dandola o togliendola a seconda di chi fa i loro interessi e dall'altro col bastone delle liti temerarie delle querele e questo noi non lo possiamo non ce lo possiamo nascondere perché la narrazione della giustizia in questo paese è pesantemente condizionata dal fatto che i padroni dei giornali sono quasi tutti sotto processo o se non lo sono più lo sono stati o se non lo sono loro lo sono i loro amici e basta difficilmente a 30 anni da mani pulite avremmo letto una tale profluvie di palle di revisionismi di negazionismi di scemenze e di falsificazioni se i giornali e le televisioni non fossero in mano ai principali imputati o condannati di questo paese io l'altro giorno ho visto addirittura la beatificazione di Gabriele Cagliari Gabriele Cagliari era il presidente dell'ENI che in Svizzera aveva un conto personale con 13 miliardi di lire e dopo che si è ammazzato in carcere sua moglie è andata a svuotare e ha restituito all'ENI io non ho conti in Svizzera non ne ho mai avuti ma se uno ha un conto in Svizzera e la vedova dopo il suicidio va a prendere quei soldi invece di tenerseli li restituisce all'ENI e vuol dire che il marito li ha rubati all'ENI perché altrimenti sarebbero stati i risparmi della sua vita e sarebbero rimasti alla sua famiglia allora com'è possibile ricordare Tangentopoli senza mai parlare delle tangenti e dipingere un chiaro colpevole che si era fregato 13 miliardi a un'azienda pubblica che aveva il divieto di legge di finanziare i partiti per un martire innocente che è stato ammazzato in carcere da giudice questo può succedere soltanto perché in questo paese l'informazione la comandano gli imputati e i condannati e i colpevoli tra gli imputati non gli innocenti perché altrimenti la campagna sulla giustizia verrebbe fatta sui veri problemi della giustizia cioè sul fatto che io se vengo indagato e poi archiviato l'avvocato me lo pago io mica me lo paga chi mi ha denunciato è garantismo questo qualcuno ha mai fatto una battaglia su questo io posso essere rinviato a giudizio senza mai essere interrogato se sono innocente io voglio essere interrogato sono colpevole l'avvocato mi dice meglio che stai zitto se no aggravi la tua posizione è mai stata fatta una campagna secondo me garantista su questo no perché il garantismo in Italia è il rifugio dei delinquenti purtroppo è per questo che è bene smetterla di parlare di garantismo perché il garantismo è una cosa talmente seria che affidarla a quelli che se ne fanno portabandiera fa ridere fa ridere io per me il garantismo è che se io voglio criticare asperrimamente un potente lo devo poter fare senza che nessuno mi denunci e se qualcuno mi denuncia quella roba lì deve finire immediatamente nel cestino perché sono le mie idee io vengo continuamente denunciato ho perso cause per aver espresso le mie idee e dato che io mi diverto a cercare di sgomitare ogni giorno per allargare un pochino l'ambito del dicibile ogni tanto mi va bene ogni tanto mi va male mi hanno condannato a 15.000 euro per una battuta perché il giudice non l'ha capita ma sono queste le riforme che andrebbero fatte se volessimo essere garantisti in America Michael Moore ha fatto un libro sul presidente degli Stati Uniti in carica George W. Bush intitolato Stupid White Men secondo voi chi l'avrebbe pubblicato in Italia un libro intitolato Stupid White Mattarella Stupid White Draghi Stupid White Conte Stupid White Renz nessuno perché? perché da noi si continua nel 2022 a confondere un'opinione con un fatto determinato falso per cui io faccio le battaglie per difendere il mio diritto e quello degli altri di esprimere le proprie opinioni e mi ritrovo al fianco gente che per vent'anni ha scritto che Di Pietro prendeva le tangenti mentre notoriamente non ha mai preso un euro o che la Boccassini rapiva le bambine mentre la Boccassini non ha mai rapito nessuno e mi pare normale che lo stesso reato pulisca il mio ritenere che un potente è un cretino con il fatto di scrivere che tizio ha rubato mentre non è vero e ancora a questo siamo nel 2022 e pensiamo che il problema sia che ci sono i manettari e i garantisti non ci sono né i manettari né i garantisti non c'è niente sono tutte parole vuote perché se il garantismo avesse un senso noi non avremmo più i delitti di opinione avremmo una seria rettifica avremmo una seria punizione delle liti temerarie avremmo una cauzione messa lì da chi ti chiede i soldi in proporzione a quanti te ne chiede e se perde i soldi li dà lui a te per il danno che ti ha fatto perché se io ricevo una causa da un miliardo come mi è successo dodici volte con Berlusconi e con Medias e con Finibest e con Forza Italia e con Tremonti perché poi quando si tratta di denunciare diventano mostri a sei teste per una trasmissione per un libro nel 2001 mi spavento mi spavento poi alla dodicesima non ci faccio più caso perché penso tanto io un miliardo non ce l'ho e quindi non me lo possono togliere ma c'è gente che si spaventa la prima volta che le riceve quelle cose e quindi va risarcita e noi siamo all'anno zero su questo nonostante che siamo pieni di sedicenti garantisti o di persone che pensano che riformare la giustizia sia appunto separare le carriere o vietare i giornalisti di pubblicare i verbali che è una boiata pazzesca perché siamo nella società mediatica e quindi tenere i segreti non ci riescono più nemmeno i servizi segreti io ho litigato con molti avvocati perché spesso il processo mediatico lo fanno loro io ho litigato con la Buongiorno e con Ghedini perché continuavano ad andare in televisione a dire di aver vinto i processi perché il loro cliente si era prescritto e non si può fare disinformazione sulla prescrizione esatto non si può fare disinformazione sulla prescrizione se Andreotti c'è scritto che è colpevole di associazione mafiosa fino alla primavera del 1980 non puoi metterti a strillare assolto 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 perché tanto sai che c'è un sacco di gente che se la beve non è vero che è stato assolto è stato assolto dopo il 1980 e prima noi dovremmo sapere che abbiamo avuto un presidente del consiglio sette volte che è stato associato con Cosa Nostra dal dopoguerra al 1980 che è un bel periodo quindi il processo mediatico è inevitabile ma per limitare i danni del processo mediatico bisognerebbe avere almeno il coraggio di chiamare assoluzioni le assoluzioni prescrizioni dei colpevoli prescrizioni e spiegare qual è la differenza altrimenti nessuno può lamentarsi e io naturalmente mi sono difeso in quelle cause per dire che cos'è la prescrizione attraverso avvocati che lo sanno benissimo che cos'è la prescrizione quindi c'è malafede quando qualche avvocato cerca di spacciare il suo cliente prescritto per uno che è stato arrestato per sbaglio l'errore giudiziario è quando prendi uno al posto di un altro non quando si prescrive il reato che è accertato o magari è stato fotografato o addirittura filmato la realtà parallela è anche questa non è soltanto quella costruita da quei dementi che fanno il controinterrogatorio al testimone del processo Agrillo Junior senza nemmeno che sia stato sentito dal giudice su quello secondo me una norma ci potrebbe anche stare si potrebbe anche stabilire che certe cose non si possono fare perché è troppo quello dire che c'è un processo dire che cosa dice l'accusa e che cosa dice la difesa è giusto vista la rilevanza pubblica controinterrogare in televisione il testimone forse è troppo forse si può vietare quello e non è che va tutto bene e io credo che il discrimine sia proprio questo il buonsenso lo spazzare via l'ipocrisia e i luoghi comuni e il tenere sempre presente la giurisprudenza europea che è un po' più avanti della nostra che stabilisce uno spartiacco e nettissimo tra le questioni che hanno interesse pubblico e le questioni che attengono al privato del privato non deve fregare niente a nessuno a meno che non abbia una rilevanza pubblica per un qualche tipo di ragione che naturalmente va argomentata ma io credo che se partiamo da questo ci guadagniamo e possiamo fare anche un sacco di battaglie insieme perché poi vi assicuro che a me non mi paga mica le procure anzi come sa ben Angela io denunce da parte di procuratori e addirittura di un'intera corte di un'intera corte d'appello mi hanno denunciato in tre perché ho osato criticare la loro sentenza quindi figuriamoci vi ringrazio scusate se mi sono dilungato grazie dottor Travaglio anche noi la pensiamo come lei che chi ruba deve andare in galera ma anche deve essere adeguatamente assistito questo aggiungo certo quindi su quello credo che non ci siano dubbi e credo che sia assolutamente assodato anche la violazione dei segreti voi dovete violare i segreti però è anche vero che spesso la violazione del segreto comporta la distruzione di una persona e poi se dovesse arrivare la soluzione la soluzione non fa notizia di questo mi deve dare atto cioè nel senso che se si viene arrestati o se fuoriesce un'informazione di garanzia per l'imputato eccellente si dà grandissimo risalto perché ovviamente l'opinione pubblica è ghiotta di notizie del genere poi se viene archiviato viene assolto se si fa un trafiletto e tanto anche questo io sono d'accordo con lei il giornalista deve riportare la notizia allo stesso modo per una questione di ontologia dovrebbe portare dare lo stesso risalto alla notizia della soluzione laddove intervenga la soluzione allora sono d'accordo con lei come vede ci ritroviamo che effettivamente ormai in un mondo mediatico le notizie devono essere date ma devono essere date con la stessa misura altro aspetto per quanto riguarda la difesa dei detenuti in regime di 41 bis allora noi praticamente abbiamo un articolo 3 della Costituzione che dice che siamo tutti uguali cioè il principio di uguaglianza e allora dobbiamo dire o determinati detenuti per le ragioni che lei ha detto che possono essere comprensibili o meno hanno sono dei cittadini di serie B che non hanno determinate garanzie e determinati diritti e allora si pone però un problema di democrazia perché laddove c'è il diritto alla difesa che è un diritto costituzionalmente garantito quindi si dà un valore importante e interviene anche la Corte Costituzionale per dire che l'estinsegazione di questo diritto è anche il rapporto tra la libertà di corrispondenza tra avvocato e cliente e allora lì interviene questo problema c'è un problema di capire se quella norma va ad incidere su principi costituzionali che sono il fondamento della nostra democrazia e poi per quanto riguarda Gabriele Cagliari io ritengo che comunque il suicidio di una persona a prescindere da quello che ha commesso sia sempre un fatto assolutamente terribile quindi cioè andare a giudicare quello che lui ha fatto non credo che competa a noi e non competa neanche a lei ma poi se è vero no compete a me compete ma è un giudizio che guardi a me compete il presidente dell'ENI avvocato il presidente dell'ENI non può derubare l'ENI se la deruba non può essere spacciato per un martire della mala giustizia mi dispiace però c'è un altro aspetto sembra che Gabriele Cagliari si sia suicidato perché gli era stata promessa la scarcerazione o mi sbaglio questa è no no non è così no gli è stata promessa la scarcerazione e poi hanno scoperto che dal carcere a proposito di quello che dicevamo prima tramite l'avvocato stava mandando messaggi fuori cioè stava inquinando le prove e quindi l'hanno lasciato dentro perché le misure cautelari che sembravano non avere più ragion d'essere hanno ritrovato ragion d'essere da un suo comportamento e quindi è rimasto dentro ma in ogni caso se avessero arrestato uno scippatore credo che nessuno si sarebbe meravigliato e io non conosco scippatori che con un scippo riescano a fregare 13 miliardi di lire all'Eni per quello per come la vedo io lo scippatore ha gli stessi diritti del manager di Eni e via di c'è cioè non c'è nessuna differenza infatti io mica ce l'avevo con lei io ce l'avevo con un uso che è stato fatto 30 anni dopo del suicidio di Cagliari la teontologia del penalista deve essere che se sei avvocato d'ufficio se sei avvocato di fiducia se ti hanno pagato non ti hanno pagato il cliente noto o non noto è uguale quando entra quando tu assumi la difesa quindi questo deve essere il principio generale in ultimo per quanto riguarda lei ha fatto riferimento a quel processo del senatore e della droga in quel processo noi abbiamo appreso del decreto dell'emissione del decreto di giudizio immediato dalla stampa la stampa lo pubblica alle due del pomeriggio la notifica agli studi degli avvocati perviene la sera anche questo ritengo che non sia corretto io capisco che bisogna violare bisogna violare i segreti però è anche cioè delle ci sono delle norme che vengono sistematicamente violate e anche lì ci sono anche delle problematiche da affrontare da una parte e dall'altra mi taccio perché io non sono relatore sono solo moderatore cioè soltanto era per confrontarmi un attimo con lei lascio la parola a Giuseppe Belcastro che ha risposto ad uno ha risposto e ci dirà come la pensa sempre sullo stesso articolo sì buonasera buonasera dottor Trovaglio buonasera a tutti i relatori io a differenza di domenico non condivido quasi nulla di quello che ha detto ma insomma questo è un fatto devo dire che mi sono interrogato perché poi lei diciamo declina bene gli argomenti Giuseppe hai tolto la eccoci sì sì era successo dicevo lei declina bene gli argomenti mi sono interrogato per tutto il corso del suo intervento che è stato lungo ma interessante su quale fosse il punto diciamo di caduta di quello che lei stava dicendo perché c'erano alcune cose che mi sembravano convincenti che però non mi tornavano col tema sul quale mi stavo interrogando cioè il tema dell'informazione giudiziaria il tema del penalista e dei rapporti del penalista con la stampa alcune cose che lei ha detto hanno a che fare con il rapporto tra il penalista e la stampa altre cose non hanno proprio nulla a che spartire se non nella caratteristica generale della matrice cioè la libertà di informazione il diritto oltre che il dovere di informare che tutti noi diciamo riconosciamo io non credo ci sia nessuno attorno a questo tavolo che metta in dubbio neanche per un secondo per un istante non solo che il giornalista abbia il diritto di ricercare le notizie ma che addirittura abbia il dovere perché questa è la funzione che il giornalista deve esercitare ora chi le parla lei ha detto ha menzionato in coda al suo intervento due punti che ha definito due sonore sciocchezze o qualcosa del genere cioè separare le carriere e vietare la pubblicazione dei verbali io sono un sostenitore diciamo della premora sia della separazione delle carriere sia del divieto di pubblicazioni verbali ed è su questo tema che mi voglio confrontare con lei partendo proprio da quello che lei scrive in quell'occhiello mi fa piacere che sia suo perché lei ha risposto ad una collega che le aveva scritto una lettera dicendo io non mi posso dissociare da quello che penso questo mi aveva fatto pensare che l'occhiello all'articolo di Antonella Mascari fosse suo lei oggi ce l'ha confermato io la ringrazio perché in questa maniera posso parlarle direttamente di quello che io penso vede quando lei cita l'esistenza lei ci pone un quesito e ci dice potete escludere ho appuntato ho preso dieci pagine di appunti mentre parlavo quindi qualcosa mi sarà sfuggito potete escludere che un avvocato possa portare all'esterno un ordine di morte da un boss che assiste e come possiamo fare ad escluderlo non siamo sarebbe una cosa impossibile escludere questo così come non possiamo escludere che un procuratore decida di veicolare attraverso la penna di un giornalista diciamo vicino ed amico una notizia che magari non è proprio vera o che è un pezzo della notizia complessiva non possiamo escludere queste cose ma non ci verrebbe mai in mente di dire che il giornalista che percepi che riceve una notizia da un procuratore quale che sia sia diciamo costretto a non pubblicarla o debba in qualche maniera che ci voglia una legge che gli vieti di fare quella questa sarebbe la stortura del principio allora come io dicevo qualche tempo fa una legge ad personam e lei di questa cosa è un esperto perché ne ha scritto parecchio non è solo quella che disciplina il caso a favore del soggetto ma è anche quella che toglie i diritti di tutti per risolvere il problema di uno allora è ben vero che possono esistere casi in cui il difensore veicola all'esterno non possiamo escluderlo ma lei si rende conto qual è il pilastro costituzionale che sorregge la riservatezza delle comunicazioni tra il difensore e l'imputato primo argomento cioè lei quando fa questa affermazione riflette sul fatto che quello è una pietra d'angolo rimossa la quale può venire giù tutto l'impalcato perché obiettivamente noi parliamo della come dire l'ultimo rapporto che unisce l'imputato e ora più fuori di metafora alla collettività è il rapporto che ha con l'avvocato è l'ultimo soggetto che è in grado di tutelare i diritti non dell'innocente ma persino del colpevole toglierli al colpevole vuol dire toglierli a tutti ora è chiaro che io non voglio fare un discorso ipocrita dicendo ah ma siamo tutti belli e siamo tutti buoni questa è una pazzia ci sono come tra i giornalisti tra gli avvocati che prima ha nominato e ha menzionato tutta una serie di categorie i politici addirittura il monsignore e quant'altro siamo tutti d'accordo su questo però noi non dobbiamo riflettere sull'avvocato ma dobbiamo riflettere sulla funzione che egli eserciti nel rapporto con la stampa oltre che nel rapporto con il processo ora qual è secondo me il dato che un po' diciamo spero un po' scompare intanto diciamo il fatto che lei non si senta affatto un giustizialista cioè che se non glielo ripetessero quotidianamente lei non si sentirebbe un giustizialista e questo è secondo me una parte del problema perché non percepisce a valle quello che che è l'effetto di quello che dice sulla base di quello che ha messo a monte al ragionamento allora secondo me il tema è questo noi dovremmo accordarci su alcuni punti di partenza il primo punto di partenza è che cosa sia l'informazione giudiziaria attenzione quando lei dice che in America si è fatto il libro stupido uomo bianco quella non è informazione giudiziaria quella è la critica politica che esprime un'opinione peraltro documentata sulla base di fatti fatti accertati documenti diciamo interpretati ma comunque portati non come antologia portati all'attenzione del soggetto che deve formarsi cioè del cittadino che deve formarsi un'idea sulla base di quel libro allora dicevo l'informazione giudiziaria lo scopo dell'informazione giudiziaria qual è così ci chiariamo sul perché poi arriviamo in posti diversi con il ragionamento lo scopo dell'informazione giudiziaria è quello di verificare come il soggetto che ha ricevuto l'investitura dei cittadini per l'esercizio del potere giudizionale la sta esercitando se si mette questa cartina al tornasole sul tavolo è del giornalista è dell'avvocato è del pubblico ministero lascio fuori il giudice che in questa storia purtroppo io dico non c'entra niente poi vedremo perché ritengo purtroppo allora forse ci possiamo ci possiamo soffermare a ragionare perché noi siamo così sideralmente distanti nelle posizioni che esprimiamo perché lei vede dottor Travaglio lei si appunta su fatti come dire incontestabili sotto il profilo degli accadimenti lei dice delle cose che ciascuno di noi non si sognerebbe mai di negare il problema è che ne trae delle conseguenze di carattere generale laddove queste conseguenze di carattere generale farebbero più danno che beneficio rispetto a quello che succede ora che cos'è l'informazione giudiziaria l'informazione giudiziaria è il veicolare al cittadino la modalità con cui la funzione giuridizionale viene esercitata consentendo quel controllo che una volta si esercitava in maniera magari diretta partecipando ai processi e quant'altro e allora se questo è l'obiettivo la domanda che mi pongo e che le pongo io non so non credo ci sia tempo per un altro giro ma speriamo di poter proseguire in un altro momento dicevo in che modo il pubblicare stralci di un verbale o frasi di volettate di una intercettazione può contribuire a dimostrare o a spiegare al cittadino come viene esercitata la funzione giuridizionale perché questo è il vero tema io ho letto recentemente l'articolo di un di quello che ritengo uno dei diciamo più attenti giornalisti sul panorama nazionale che è Mattia Felti che ha scritto un articolo sul sul disastro del Rigopiano non so se l'è avuto modo di leggere in cui ha preso questa frase che è stata citata come il sintomo come la prova di un di uno strafottente veneferismo del soggetto che avrebbe invece dovuto prendersi cura di quello che andava accadendo ha avuto come dire la pazienza di leggersi un intero procedimento un intero fascicolo di carte e di contestualizzare quella frase e di spiegare che quella frase tutt'altro poteva significare rispetto a quello che invece era stato le era stato attribuito come significato ora questi passaggi mi fanno riflettere sul fatto che lei dice apriamo i fascicoli in questa maniera che è una maniera che ispira maggiormente come dire ha un appeal quando lei dice diamo tutto il fascicolo così si eviterà che il giornalista dipenda dal pubblico ministero o dal difensore come se voglio dire come se le capacità di influenza fossero similari e così dando tutto il fascicolo il giornalista potrà come dire autonomamente rimaneggiare il materiale però attenzione dottor Travaglio noi non dobbiamo rifare il processo il tema è informare non significa celebrare un secondo anzi un primo processo un processo che anticipi il processo che poi andremo a celebrare nelle aule di udienza perché questo è un grave rischio ma non perché come dice lei il giudice sembra che si debba chiudere in una teca come Tutankano questa figura suggestiva lei è bravissimo a disegnare queste figure suggestive mi congratulo con lei non è per quello il punto il punto è che si innescano e qui siamo questo è uno dei punti su cui siamo d'accordo meccanismi di alterazione della prova per il fatto che si vada a raccogliere la testimonianza di uno che non è ancora stato sentito lei lo ha detto su questo concordiamo è un'avverrazione rispetto alla vicenda processuale il fatto che i giudici italiani così come gli avvocati pubblici misteri e persino i giornalisti non abbiano un minimo di formazione sui bias cognitivi cioè sulla capacità sulla possibilità di essere compromessi nell'adozione di un giudizio da tutto quello che si è ascoltato da tutto quello che si è sentito allora questi sono fatti che noi non possiamo non considerare rispetto all'informazione giudiziaria nel momento in cui lei mi dice il criminale che passa il messaggio alla sua avvocato al 41 bis diciamo l'informazione completa vorrebbe che si dicesse anche per esempio mentre lei parlava mi è caduto sott'occhio questo dato in un foglio che non c'entrava nulla che il 73% dei detenuti al 41 bis sono ancora in attesa di giudizio e lei sa quanti sono poi coloro che anche dal 41 bis passano alle libertà come una soluzione ora io capisco che si possa più semplicemente più facilmente più chiaramente comprendere il messaggio che dice quelli stanno in galera sono dei criminali lei parlando di questi messaggi ha ripetutamente diciamo declinato la parola mafioso io vorrei soltanto diciamo segnalarle che non sono tutti mafiosi alcuni sono mafiosi perché condannati in via detentiva per quel reato altri sono in attesa di un giudizio e vogliamo mettercela la possibilità che qualcuno di questi sia pure innocente ora lei ha un'idea ma ha un'idea di quale sia il dramma che si vive nella vita di una persona e di una famiglia nel momento in cui la sentenza che arriva dopo dieci anni e lasciamo stare alla prescrizione che non c'è più quindici anni o quello che sia attesta che tutto quello che è successo non avrebbe dovuto succedere o avrebbe potuto non succedere ora la perversione della macchina processuale è ineludibile in qualche maniera il criterio della prescrizione mirava a comprimere questa perversione però se a questa perversione compressa quanto vogliamo che comunque in qualche maniera rimane aggiungiamo persino la perversione di un procedimento mediatico che non si focalizza sul processo dottore perché noi parliamo di informazione giudiziaria ma io qualche tempo fa pensavo forse dovremmo parlare di informazione investigativa perché del processo non frega quasi più niente a nessuno quello che troviamo sui giornali non è la vicenda processuale è la vicenda investigativa e cosa vuole che venga fuori dalle investigazioni viene fuori l'immagine di un soggetto che è imputato perché ha ragione di essere imputato lei in un suo divertente articolo nel settembre dell'anno scorso scriveva che i loro signori non sono più spaventati di finire in galera ma sui giornali cioè che si sappia quello che fanno ora capisco la sua battuta ma non è che si sa quello che fanno si sa quello che la procura pensa che loro facciano che non è sempre quello che fanno o non è sempre quello che basta ad essere poi condannati lei mi dirà come diceva già qualcuno in passato che se uno diciamo mi ruba l'argenteria io non aspetto la sentenza ma questo lo possiamo dire al bar dottore Travagli noi parliamo di informazione giudiziaria e quindi se vogliamo fare un articolo sostenendo che il politico tal dei tali dovrebbe dimettersi perché a nostro avviso nella nostra opinione va benissimo ma se vogliamo sostenere questo articolo con uno stralcio dell'intercettazione uno stralcio del verbale che sostiene l'ipotesi accusatoria rischiamo di fare una un'operazione che io francamente diciamo attribuisco alla attribuisco alla ad un errore epistemologico sul processo e sull'informazione sul processo intanto perché il processo non serve a sgominare i fenomeni non serve a riportare l'equità sociale non serve a come dire a sconfiggere la criminalità organizzata certo può essere che con la se no se fosse così non è che ogni operazione antimafia noi sentiamo sgominata la cosa sono vent'anni che sgominiamo e non abbiamo finito quindi il tema è il tema è che il processo non serve a sgominare la mano il processo serve a accertare dei fatti e punire coloro che risultino colpevoli lo deve fare in un tempo ragionevole e lo deve fare in modo tale che chi per avventura fosse anche uno su dieci e non è così perché le sentenze assolutorie in Italia si aggirano secondo i dati ufficiali attorno tra il 30 e il 35% quindi quando anche se fra questi imputati ce ne fosse qualcuno anche pochi uno due tre cinque non lo sappiamo che sono innocenti noi non possiamo accettare e tollerare il rischio che oltre al al peso schiacciante della vicenda processuale sulle loro spalle gravi anche il peso non solo schiacciante ma esiziale di una macchina informativa che ha distrutto l'esistenza ora lei dice che questa questo decreto legislativo è una demenza così mi pare lo abbia definito una scelta demenziale io invece ritengo che non lo sia perché è vero quanto dice lei e anche Ferrarella prima ancora Ferrarella lo chiarisce con una con un certo devo dire con una certa eleganza con un certo garbo non che lei faccia meno però lei è più spiritoso e quindi questo punto sfugge il tema qual è è chiaro che diciamo ciascun operatore del diritto non dovrebbe in Italia avere introiettato il principio secondo cui bisogna essere continenti bisogna esprimersi una Maria Natale che dalle nostre dalla nostra declinazione non derivino danni ai soggetti che vengono coinvolti ma così non è così non è noi abbiamo assistito a fatti come dire mediatici a fatti pubblicitari cioè ad attività che sono state operate dalla polizia giudiziaria al solo scopo di diciamo diffondere lo sviluppo investigativo sostenendolo anche con dati che non sono appartenuti all'indagine penso al furgone di Bossè ora questo è informazione giudiziaria mi avviso questo non è informazione giudiziaria allora cosa dice quella norma dice in maniera forse un po' ingenua che tutte le comunicazioni sulla fase investigativa debbano passare dal dal procuratore capo che in fondo è una un modo per dire non chiudiamo i rubinetti ma facciamo in maniera che tutti i tubi confluiscano su un unico rubinetto il procuratore capo di Milano mi pare si lamenti di questo fatto dalle colonne del suo giornale se ne lamenta dicendo mi pare che ci sia tanto potere per il procuratore per il procuratore della Repubblica ma anche l'ordine forense anche l'ordine forense ha parlato di censura strisciante questo mi ha fatto molto piacere io lo so so bene che l'ordine forense io dissento da questa opinione sulla base di questa riflessione il procuratore che dice che si tratta di molto potere in capo alla procura intanto mi fa un po' sorridere che il potere in capo alla procura si sia scoperto adesso rispetto ad altri fatti precedenti ma al di là di questo è molto potere ho paura che sia un come dire eufemismo oppure una parola dissimulatoria di molta responsabilità tanto e ciò è vero che mentre alcuni procuratori come mi pare Cantone sicuramente lo voi hanno come dire limitato gli interventi sulla stampa dei capi delle agenzie investigative chiamiamoli così il procuratore di Milano se non ho letto male perché l'ho letta velocemente sostiene il contrario cioè dice secondo me le interviste dei capi delle agenzie investigative non rientrano nel divieto cioè facciano come vogliano continuano a fare interviste ora mi spiega perché un investigatore deve fare un'intervista rivelando particolari dell'investigazione questa è informazione a chi giova questo non giova a nessuno una volta che lei ha dato la notizia una volta che c'è un arresto lei dice l'assessore tal dei tali del comune tal dei tali è stato arrestato per questo ma a chi serve propalare i particolari del fascicolo mi avvio rapidamente la chiusura perché siamo fuori tempo ma credo non possiate addebitarmi nella responsabilità Cesare scusami ti rubo soltanto un altro minuto e poi vado a chiudere il tema rispetto alla all'ostensione del fascicolo il problema lo sa qua lei dottore che lei pratica questo mestiere lei poi ci ha detto che fa anche il mestiere di imputato quindi ha una doppia capacità di lettura degli atti degli atti processuali ma lei pratica questo mestiere da anni e ha una certa qual dimestichezza nel correlare i dati che sono interni al fascicolo chi come me fa questo mestiere da 25 anni sa che è difficilissimo correlare tutti i dati tanto è vero che giunti alla fine del processo ci sono due versioni dei fatti la versione del pubblico ministero la versione del difensore che sono versioni basate tutte e due razionalmente chi più chi meno sugli stessi atti ora lei si immagina che cosa vorrebbe dire affidare le correlazioni tra gli atti investigativi non a Marco Travaglio che naviga queste acque da molto tempo per quanto secondo me le navighi nella direzione sbagliata ma a giornalisti che hanno sostanzialmente una come dire una diciamo così scarsa dimestichezza col fenomeno giudiziario e lei se legge le pagine dei giornali di oggi si avvedrà che quanto sto dicendo non è pazzia quante volte noi leggiamo il rinvio a giudizio confuso per la richiesta di rinvio a giudizio o il PM che è un giudice o il PM che arresta questi sono errori fondamentali rispetto al messaggio che veicoliamo al cittadino chiudo con un'ultima riflessione c'è un altro errore epistemico e questo glielo voglio dire quasi in piedi glielo dico perché lei ha menzionato Fulvio Croce e questo mi ha fatto un grande piacere ma c'è un errore epistemico nella sua lettura dei fatti che è quell'errore che la porta a dire che l'avvocato si dovrebbe dissociare che quando si cambia la linea difensiva si cambia l'avvocato perché l'avvocato è pagato dalla cosca questo atteggiamento è un atteggiamento glielo dico con franchezza che non è tollerabile sa perché perché sfugge prima ancora prego è quello che succede però no non è quello che succede è quello che succede se lei guarda il fenomeno sotto il profilo della ricaduta se lei mi dedica 30 secondi ancora vedrà come la penso io e non la penso così il tema è un altro la funzione dell'avvocato nell'ambito del processo è quello di combattere la struttura accusatoria quando anche fosse corretta la struttura accusatoria sa perché non perché l'avvocato è pazzo ma perché il sistema che abbiamo scelto per accertare la verità tra virgolette o meglio per accertare le responsabilità è il sistema accusatoria che funziona soltanto nella misura in cui il pubblico ministero e l'avvocato si scornano pesantemente in udiense chi dica il vero e chi dica il falso non importa l'importante è che ci sia un giudice che sappia filtra lei lamenta che alcuni avvocati in un famoso vecchio processo hanno presentato una lista testimoniale con 4.700 testimoni allo scopo di dire e vabbè non c'è niente di anomalo perché c'è un giudice che è in grado di dire che anziché 4.700 ne devono sentire 4 funziona così il meccanismo non è che c'è un danno da quello poi che lei voglia stigmatizzare lo stile di qualche avvocato la parola detta fuori posto se partiamo così possiamo fare un elenco di avvocati e giornalisti distinti in buoni e cattivi ma non facciamo un passo avanti il passo avanti se lo vogliamo fare senza collaborare Domenico ma semplicemente confondateci che è la cosa che ci viene forse meglio il passo avanti lo dobbiamo fare diciamo confrontandoci con questa franchezza però tornando ai temi importanti del processo e dell'informazione altrimenti diciamo procedendo per esempi procedendo per piccoli fatti che sono sicuramente veri ma che non possono illuminare il contesto finiamo per dire quella cosa che diceva sempre George Barnashaw che diceva ci sono verità complesse diciamo ci sono fenomeni complessi che possono essere spiegati con delle diciamo con delle ora non ricordo esattamente con delle declinazioni semplici declinazioni semplici che però sono sbagliate la complessità del fenomeno processuale non può essere data in pasto da chi non ha gli strumenti per farlo a chi non ha gli strumenti per leggerlo e allora qui noi dovremmo avere il ruolo di mediazione della vicenda processuale sulle pagine di giornali di riviste del nord Italia non mi ricordo neanche come si chiama recentemente per scardinare impostazioni accusatorie si sono addicati uno per uno nome e cognome gli avvocati facendo la storia delle loro difese e dicendo che siccome avevano difeso per lo più soggetti accusati di associazione ma che cosa erano mafiosi anch'essi e il fatto che gli imputati li avessero scelti piuttosto che sceglierne altri stava a significare bene questo corrompe il quadro questo ci impedisce di ragionare come invece dovremmo fare e se noi l'abbiamo invitata io credo il motivo sia anche questo il confronto deve essere franco e così è stato fino adesso mi farebbe molto piacere se ci fosse ancora tempo per fare un altro un altro giro di battute ma se non ci fosse diciamo auspico che prima o poi ci si possa rincontrare da qualche altra parte la ringrazio e scusate se sono stato l'unico grazie Giuseppe per il tuo intervento il tuo confronto e soltanto volevo fare annotazione al dottor Travaglio lei ha detto che il suo quotidiano non si è occupato di Totti e Larry Brasi in realtà qui online sul fatto quotidiano dice Francesco Totti e Larry Brasi crisi per questioni economiche e spunta il nome di un uomo accanto a lei il gossip non si ferma forse non no 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 io parlavo del mio quotidiano del tuo quotidiano del tuo giornale io dirigo io dirigo il fatto quotidiano poi c'è il sito il sito fatto quotidiano è sempre fatto quotidiano online va bene si si è diretto da un altro direttore che ha ritenuto di dare quella cosa io ho ritenuto di non darla perché non me perché non me ne importa niente ok grazie la parola Cesare Blacani eccolo eccolo grazie grazie a tutti grazie soprattutto ovviamente al nostro ospite al direttore Travaglio che è stato a venire a ragionare con noi devo dire dotato di coraggio lui insomma ma questo era noto e veniva a discutere in mezzo a noi dotati di grandissimo coraggio a noi perché sostanzialmente abbiamo invitato in casa un ospite che c'era più io per la verità in modo un po' sconportato ma per la verità con il massimo garmo penso che inevitabilmente alla fine quel passaggio di che è stato riletto ci ho riflettuto molto mentre parlavate mentre parlavano tutti quel passaggio che è stato riletto di quel titolo con quel catenaccio è stato riletto dal direttore ma l'ha detto la consulta cancella la censura della corrispondenza del 41 bis geniale così i boss potranno ordinare omicidi e stracci io credo che sia inevitabilmente offensivo per gli avvocati penalisti direttore e le dico perché noi partiamo da un dato che poi è quello valorizzato dalla Corte Costituzionale e il dato secondo tu di diritto di difesa è quello ho capito che lei lo condivide è pieno per il secondo lavoro scusami Cesare se ti interrompo una comunicazione di servizio mi dicono di non muoverti perché se tu ti muovi il microfono non non funziona perfettamente quindi la metà di quello che dici non si non si sente quindi se parlo senza auricolari è meglio? sì forse è meglio forse è meglio allora stavo dicendo perché io credo che sia inevitabilmente offensivo partiamo dal condiviso il condiviso è certamente la corte costituzionale ha chiamato il diritto di difesa ha detto che è un principio supremo dell'ordinamento costituzionale e certamente sappiamo e anche questo credo che sia condiviso che il diritto di difesa si come dire si esplicita e si declina in varie aspetti uno degli aspetti fondamentali del diritto di difesa è la libertà di comunicazione segreta e protetta tra l'avvocato e il suo assistito anzi ho sbagliato a dire l'avvocato perché a noi degli avvocati non ce ne importa niente tra il cittadino sottoposto al processo e il suo difensore non l'avvocato perché la categoria degli avvocati mettiamola da parte non ci interessa quindi il cittadino sottoposto a un processo e questo ovviamente non esiste solo negli stati totalitari voglio dire la scuola di Kiel che puniva la cattiveria del re o durante Stalin era vietato il colloquio segreto tra l'avvocato e il co-assistito quindi secondo passaggio io credo condiviso il diritto di difesa è un principio supremo si esplica e si declina anche il diritto di difesa con la possibilità di un colloquio segreto dove il cittadino possa essere diciamo consigliato tecnicamente su quelli sono i problemi non sia improvvido nelle sue scelte può essere consigliato anche avviarsi a una come dire a una collaborazione se non che il passaggio voi potete escludere lei tra l'altro molto drasticamente dice io non mi fido neanche del 99% dei miei colleghi eccetera eccetera il passaggio determinante è possibile l'accidentale alla patologia è possibile escludere che l'avvocato riceva una istruzione a parte che la potrebbe ricevere nel colloquio di presenza ma comunque un'istruzione a un atto illecito mediante la corrispondenza col proprio assistito e nessuno di fronte a questa domanda si è possibile può rispondere no il vero problema è che quello che si è posto alla corte costituzionale che per limitare questo dato così diciamo rilevante per l'ordinamento costituzionale cioè privare il cittadino della possibilità di comunicare segretamente col proprio difensore quel dato deve essere come dire pesante sotto un dato ponderale cioè per escludere quel passaggio noi dovremmo arrivare a considerare non una patologia isolata come consideriamo per esempio una patologia isolata quelli dell'amministrazione penitenziaria che meno nei detenuti e nessuno si sogna di come dire di fare azioni punitive preventive come consideriamo una patologia isolata il giornalista che diffama sistematicamente il blog e nessuno si pensa o ipotizza di censurare la stampa perché c'è la patologia delle delle diffamazioni come consideriamo una patologia diciamo non pesante sotto il profilo ponderale i pubblici ministeri corrotti io sto girando l'Italia facendo processi a Siracusa a Potenza e in altre parti d'Italia dove procuratori della Repubblica sono sotto processo per avere abusato dei loro poteri e nessuno si sogna di depotenziare il potere di un procuratore della Repubblica allora uno per arrivare a quella conclusione drastica di vietare un diritto così essenziale per ogni democrazia deve pensare che c'è un dato ponderale ampio peraltro le dirò che non è un ragionamento che faccio solo io perché la Corte Costituzionale si è posto esattamente questo poesito e ha detto proprio esplicitamente che per solo ipotizzare un divieto di comunicazione tra il cittadino e il suo difensore bisognava concepire e poi virgolettato un generale insostenibile presunzione di collusione tra il difensore e l'imputato questo è il vero passaggio che io credo renda offensivo quel per tutti noi non per quei delinquenti che si prestano a portare i messaggi dei mafiosi e che devono essere radiati dall'albo e mandati in carcere una volta che con le regole del giusto processo sono stati giudicati col pello quelli sono i primi nemici nostri i nostri primi nemici e questo concetto e d'altronde la Carta Costituzionale dice questo dato non può mai assurgere una massima di esperienza allora vede dottore lei butta l'acqua sporca col bambino questo è il vero passaggio perché per tutelare un dato a meno che lei non pensa che quel dato sia ponderalmente sotto un profilo di grandi numeri è stesso allora se lei pensa questo io penso che sia un'offesa alla categoria perché non ci sono elementi per poter dire che ci sia una tale distorsione della professionalità dell'avvocato da poter pensare che in interi posti del paese ci siano miriade di avvocati asserviti alle cosche pronti a portare i messaggi illeciti alle cosche e non abbiano la spina torsale per rifiutarsi a questo io questo non lo penso e non lo posso pensare e non credo di essere ipocrite nel momento in cui dico che questo non esiste allora vede io credo che alla fine e veramente sarò brevissimo anche richiamando gli altri passaggi come dire citati nel suo passaggio per esempio l'obbligo di custodia cautelare per i mafiosi no o come dire l'arresto del testimone falso reticente è una visione mi permetto di dire tecnicamente non in senso come dire non voglio seguire quelle stupidaggine fascista non è fascista eccetera eccetera stiamo cercando di ragionare sia chiaro e ognuno ha diritto ad avere le sue idee ma sono tecnicamente passaggi autoritari cioè nel senso che da un punto di vista culturale direi quasi filosofico è un approccio che a tante persone anche di valore magistrati gente di cultura era con aspetti per la verità secondo me anche macchiettistici su questo aspetto purtroppo oggi imputato quindi può darsi che abbia una rivisitazione di alcuni fermi principi il consigliere Davigo il presidente Davigo no è chiaro che era una battuta è un colpevole che la fa franca ma il concetto è di di intagibilità del giudizio dell'autorità e del approccio da parte del cittadino come subito e non come parte attiva all'interno del processo con propri diritti e allora l'avvocato che sta lì non per difendere la persona perché la collega bravissima De Rosa che io ho visto crescere diciamo e quindi so quanto sia brava non difende lei dottor Travaglio difende i suoi diritti esclusivamente i suoi diritti ma quei diritti che ha lei ce l'ha qualunque cittadino che incontra la giustizia e quindi ce l'ha sì ha ragione Peppe il presunto mafioso ma ce l'ha anche il mafioso perché per esempio il mafioso ripudia a tutti e ripudierebbe a lei del primo se fosse menato tutti i giorni in un carcere frustrato perché per dire chi sono gli altri due complici o chi ha messo o chi ha messo la bomba a Capaci a noi ripudierebbe sarebbe insopportabile per i nostri perché i principi sottendono valori quindi per i nostri valori di comunità di uomini sarebbe insopportabile un abuso di quel tipo da due punti di vista uno proprio di etico un altro pratico perché lo scopo principale del processo è assolutamente quello di accertare meglio possibile la verità processuale e abbiamo capito ma l'abbiamo capito da centinaia di anni l'avevamo capito quando Manzoni ha scritto la storia della colonna infame che la mancanza di un protocollo di valutazione della prova con i guanti bianchi altera l'attendibilità della prova e quindi quando lei mi dice che il testimone falso leggente deve essere immediatamente arrestato lei rischia di alterare il procedimento di accertamento della verità all'interno endoprocessuale perché quel testimone sarà un testimone intimorito perché lei pensa che verrà arrestato perché dice una verità di forma dalla tesi dell'accusa o dice una verità di forma dalla tesi della difesa non voglio interropperla ma sono stato totalmente equivocato io ho ricordato che c'erano alcune norme pensate da Giovanni Falcone a tutela di coloro che in terra di mafia possono essere intimiditi ho fatto quegli esempi ma io non direi mai che va ripristinato l'obbligo di custodia cautelare stavo semplicemente dicendo che esistono delle norme che vengono vissute come norme contro gli avvocati o contro gli imputati o contro gli indagati e che in realtà sono state pensate a tutela secondo me è una tutela per gli avvocati il fatto di sapere che se il mafioso ci prova a utilizzarli come messaggeri di morte c'è qualcuno che legge e la stessa cosa era a tutela del testimone intimidito o a tutela di altri interessi che non sono per forza quelli del giudice era questo il discorso che ho fatto non ho detto dobbiamo ripristinare noi penalisti abbiamo la perversione di avere più interesse ai diritti dei cittadini che ai diritti all'interesse nostro e quindi il discorso su cui mi sta parametrando io non è chi non ha il coraggio e le spalle larghe per fare l'avvocato è bene che chiuda chiuda le carte potrei fare la battuta faccio il concorso per il pubblico ministero come dicevano tanti anni fa i vecchi avvocati penalisti ma è una battuta ma è bene che chiuda le carte e lasci perdere e non si interessa di quel dato io Falcone è stato lei deve sapere io ho sempre voluto fare l'avvocato penalista e l'unico momento in cui ho avuto un dubbio a fare l'avvocato penalista è stato il pomeriggio della strage di Capacci quando non andai al mio studio e il giorno dopo il professore Spinelli che conosceva abbastanza bene Falcone dove faceva la pratica giro del top insomma che lei stima mi fece capire come tra l'altro Falcone lei lo sa era un sostenitore della separazione delle carriere lo ha messo per iscritto delle funzioni tant'è che ha fatto sia il giudice che il pubblico ministero delle carriere infatti ha fatto sia il giudice che il pubblico ministero ma perché la legge era quella comunque era un sostenitore della separazione delle carriere se vuole le mando l'articolo pubblicato su Repubblica del 90 poco prima non è bello tirare dalla giacca però voglio dire è un discorso assolutamente complesso io vedo anche leggendo la sua tesi di laurea sull'istruttoria probatoria che avesse ben chiaro e poi richiamata e ripresa anche dalla cartabio ultimamente avesse ben chiaro questo problema allora io torno al passaggio che è più profondo secondo me è più ampio questo diciamo questa sincera preoccupazione e questa voce dal sen fuggita ma esplicitata in questi termini vede due passaggi uno una necessità di gestione del processo in senso autoritario cioè che è quella che ha avuto largo seguito tra l'altro tutti compattamente nemici del codice del 1989 che ha fatto appunto questa rivoluzione copernicana cioè ha detto non c'è più il papà buono che non ha nessun motivo questo è l'approccio ma per quale motivo il pubblico ministero dovrebbe che interroga un testimone da solo dovrebbe alterare la testimonianza e per quale motivo quindi quella testimonianza che ha raccolto lui non deve essere immediatamente utilizzata nel processo perché deve tornare in aula sottoporsi al contraddittorio e c'è questo rompiscatole questo diciamo questo zucchero nel serbatoio dell'avvocato perché poi il primo stato diciamo rispetto a questa giustizia in questo senso autoritario paternalistica non solo in senso negativo cioè paternalistica io sono in buona fede io io pubblico ministero non altererei mai ma noi non la non la mettiamo sotto questo profilo una giustizia laica e veramente liberale secondo principi liberali pretende che il cittadino non sia più un sud e lo strumento attraverso il quale lo stato ha scelto di di avere una garanzia sul rispetto dei canoni di legalità del processo è stato proprio l'avvocato che non può essere visto come un disturbatore del manovratore con diciamo giudicando l'effetto delle manovre perché come diceva Peppe prima è il fuoco incrociato tra le parti quello che consente di arrivare a una verità processuale più affinabile e meno afflitta dal vero mostro del processo penale che è l'errore giudiziario e tanto meno c'è spazio di manovra per la difesa tanto più è alta la percentuale di manovra allora concludono io da ragazzino feci un processo dove c'era un'intercettazione ambientale micidiale dove c'erano quattro narcotrafficanti che organizzavano un narcotraffico poi c'era la droga che arrivava sempre presso questa casa dove c'era la vicospia la spartizione della droga e tutto il resto l'unico elemento vero di prova era questa ambientale un pubblico ministero ignorante che non ha mai pagato le conseguenze di questa sua ignoranza non è stato in condizione di fare un decreto di intercettazione telefonico degno di questo nome lo ha fatto nullo quella intercettazione è stata dichiarata inutilizzabile quei narcotrafficanti che erano narcotrafficanti pacificamente sono stati assolti vede dottor Tavaglio noi sull'altare di un principio più alto che è la riservatezza delle comunicazioni a cui nessuno penserebbe di rinunciare perché quattro narcotrafficanti sono andati impuniti sacrifichiamo e accettiamo un'ingiustizia perché quella era certamente un'ingiustizia allora il problema è di approccio o noi facciamo torniamo a un medioevo come dire di garanzie e di sensibilità giuridica e consentiamo al maresciallo dei carabinieri di fare lui l'intercettazione e di utilizzarla oppure sacrifichiamo sull'altare di un principio e di un valore più alto determinate storture tra cui quella di alcuni scellerati e delinquenti avvocati pochi pochissimi secondo me che sono in condizione di rendere quelle azioni spreggevoli che lei censura questo io credo che sia il passaggio e siccome sono andati molto mi fermo così grazie grazie Cesare devo dire che il convegno l'incontro è stato il confronto la collaborazione come la vogliamo dire con il dottor Travaglia è stata molto 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 interessante tutti gli interventi sono stati equilibrati tutti gli interventi hanno dato abbiamo tratto spunti veramente di riflessione credo che ci sia materiale per altri convegni e però questo mi convince ancora di più che abbiamo fatto bene come Camera Penale di Roma a non sporgere querela nei confronti del dottor Travaglio se no poi avrebbe detto anche di noi che la querela era strumentale infondata e assolutamente ingiusta quindi almeno avete dato più lavoro all'avvocato De Rosa infatti infatti ancora siamo non ci non ci non ci ancora siamo in te ancora siamo in te se poi volete andare in civile avete cinque anni quindi ci vediamo in tribunale grazie arrivederci grazie devo dire guardi dottor Travaglio abbiamo sporato di trentacinque minuti le previsioni tutti i partecipanti sono tutti presenti quindi vuol dire che il convegno è stato veramente interessante quindi la ringraziamo perché al di là delle contrapposte visioni veramente è uscito fuori un bel convegno basta che la chiosa non è più lunga degli interventi chiudiamo arrivederci grazie a voi buonasera va bene quindi concludo dicendo grazie a tutti e vedremo se affrontare una nuova puntata grazie a tutti grazie a voi grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti